Eccoci qua, buonasera a tutti quanti, io ringrazio tutti coloro che già stanno scrivendo in maniera anche divertente alcuni commenti che hanno creato già ilarità a me e a Marco. Saluto Marco Cecini, da specificare perché questo nostro incontro di questa sera si verterà in maniera molto amichevole, anzi cuginesca potremmo dire, su questo dibattito, un dibattito che in qualche modo si porta avanti da tanti anni e vedremo anche, anzi iniziamo subito, a fare un piccolo salto indietro di 25 anni prima di presentare Marco che appunto ha tutti gli onori della cronaca per questa sera, allora questa è la copertina e dobbiamo arrivare all'anno scolastico 1997-98, qui c'è scritto giugno ma in realtà questo è riferito al secondo quadrimestre, dovete sapere che io e Marco, che appunto siamo cugini, lui ha tre anni meno di me, abbiamo frequentato lo stesso liceo, liceo Isacco Newton e nell'anno 97-98 io svolgevo l'ultimo anno, frequentavo l'ultimo anno, il quinto anno, tra l'altro nella stessa sezione l'anno prima si era diplomata Virginia Raggi, quindi diciamo che era anche una sezione particolarmente, sarebbe stata famosa, famosa, e il preside che qui ha firmato Antonino Grasso, nel primo quadrimestre andò personalmente a portare tutte le pagelle nelle classi, e andò da, anzi io vi racconto il mio, venne nella mia classe nel quinto, mi diede alla pagella, dice ah tu hai sei in latino, quindi ti chiamo Cecini, perché tuo cugino che ha nove in latino, giustami nove in latino, sbaglio, ha nove in latino, l'ho chiamato Cecini, giustamente perché c'era il riferimento con il latino, quindi in qualche modo già questo preside Antonino Grasso nel febbraio del 98 aveva sancito già una differenza storica tra i due cugini, Giovanni che è più contemporanista, non era molto avvezzo al latino, è Cecini, Marco invece che era una cima in latino, era inevitabilmente Cecini. Allora, detto questo, con questo elemento abbastanza goliardico, io presento Marco, Marco che appunto, oltre ad essere mio cugino, tra l'altro cugino di secondo grado, perché noi siamo figli di due cugini carnali, ma abbiamo praticamente vissuto insieme i primi trent'anni di vita, nel senso che abitavamo nello stesso... Nel senso di un pianerotto, con di una rampasca. Esatto, abitavamo nello stessa... Giustamente, no? Ma cugini storici nel senso che si è da sempre cugini, sì, diciamo che siamo cugini dalla nascita, nel senso che non è che siamo stati adottati come cugini, diciamo che avendo proprio il sangue nostro, proprio quello doc... Cecini o Cecini, come dir si voglia, e quindi siamo praticamente vissuti, cresciuti insieme con, tra le altre cose, cioè una passione per il cinema, una passione per tante cose comuni e soprattutto per la storia. Ovviamente, ognuno ha seguito delle proprie strade. Giustamente, qui, Metal Mike, che è un grande, è un grande anche... Metal Mike, è un grande... Esatto, onore ai cugini. Giustamente. Marco si è più specializzato nella storia antica, prevalentemente, anche se poi dopo, come lui ci dirà, ha una particolare passione, nonché anche approfondimento, ci si è anche laureato sul Giappone, sulla storia, sulla lingua, sulla letteratura giapponese, quindi diciamo che è veramente molto eclettico, ma appunto ha avuto la sua affermazione nell'approfondimento, tra l'altro, della figura di Massenzio che ci dirà. Quindi diciamo che questo sicuramente è l'elemento che ci accomuna, ma ci anche differenzia nei campi che poi abbiamo intrapreso nei vari nostri interessi culturali e scientifici. Quindi, detto questo, poi avremo modo di dire anche alcune cose simpatiche del nostro trascorso, tipo le battaglie infinite con i giochi tipo Axe in the Alias e cose del genere che veramente erano partite che duravano, perché dovete sapere che vivendo nello stesso palazzo, i tre mesi d'estate, stavamo a Roma, magari non partivamo, che ne so, qualche settimana, poi stavamo il resto a Roma, stavamo sempre insieme, quindi guardavamo un film, pure col fratello che un po' faceva un po' gioca a sé, nel senso era più informatico. Lui era il più nerd dei tre, ecco, e quindi però noi invece eravamo più analogici, facevamo cose un po' più, diciamo, di manualità, ecco, possiamo dire. Allora, ecco, infatti lo conoscevo solo per Massenzio, e invece no, Marco, giapponese, e vedi qui c'è un sacco di roba, e vedi, si stanno stuzzicando, eh? Qui, tra l'altro, appunto, Deidara Akatsushi, è già un nome che è tutto un programma, già ti stuzia. Poi, alla fine, è capace che non parliamo della nostra famiglia, parliamo del Giappone, qui è una cosa, è un attimo, eh? Infatti ti ricordi, ad Axis e Alice prendevo sempre l'asse, ma mica per niente, perché c'era il Giappone. Esatto, esatto. Va bene, allora, Marco, hai ruota libera, poi ovviamente io ti interromperò frequentemente, non solo per metterti il bastone fra le ruote, perché questo sarà il mio, il mio ruolo di stasera, ma allo stesso tempo magari ci sono delle domande che in qualche modo sono particolarmente stuzzicanti, ecco, vedi, giustamente mi vengono fatte anche delle precedenti, sarebbe Alba in giapponese, che ha visto Naruto, sa perché. Sì, che poi alla lettera sarebbe Luna Rossa, Akatsuki, Akai, Suki e Luna Rossa, che poi è quello che sembra il sole all'alba, praticamente, sembra una grande Luna Rossa, no? Quindi. Voi pensavate che avremmo parlato di antichi romani, di etruschi, no? Parliamo di Giappone, alla fine parleremo solo di Giappone, io sono sconvinto, eh? Magari rinvieremo la puntata, l'argomento, perché alla fine ci faremo trascinare verso la cultura giapponese, comunque, a parte scherzi. Marco, hai libertà di parola, puoi parlare, raccontaci di te, bel ragazzo. Insomma, sì, io, diciamo, ho fatto degli studi completamente differenti dal mondo romano, però sin da bambino, come Giovanni sa bene, perché, insomma, siamo sempre stati amanti, tutti e due per la storia, ma io ero fissato con i greci e i romani, con l'antichità classica, quindi sin da bambino ho studiato, approfondito. Poi, negli ultimi anni, questo approfondimento mi ha portato in particolare verso un periodo della storia di Roma che è un pochino meno attenzionato, è quello del Tardo Impero, è appunto l'epoca di Costantino, della Tetrarchia, in particolare il periodo di Roma durante Massenzio, personaggio bistrattatissimo della storia, misconosciuto, se è citato nei libri di storia della scuola dell'obbligo è grasso che cola, già la citazione, ma non è che si dica molto altro a parte il fatto che ha perso contro Costantino. In realtà ci sono tantissime cose da dire perché a tutti gli effetti è stato l'ultimo imperatore a regnare da Roma, non l'ultimo imperatore di Roma, perché poi la storia di Roma è andata avanti fino al 1453, come sappiamo, ma l'ultimo imperatore a voler mettere Roma al centro del suo progetto politico. e quindi per farlo ha fatto tutta una serie di cose, a cominciare da un progetto monumentale urbanistico, ma non solo, ideologico, religioso, che merita secondo me di essere raccontato, di essere attenzionato, che è quello che ho cercato di fare, sia per tramite della rievocazione storica, anche se a me piace di più il termine ricostruzione che rievocazione, cioè ricostruzione proprio a quello che io umilmente tento di fare, laddove è possibile con i reperti, dove non è possibile con i reperti con i repertori iconografici e dove non abbiamo neanche quelli con le fonti letterarie. Quindi ricostruire proprio dal nulla quello che poteva essere un ambiente, un personaggio, un vestiario, anche una sensazione, un impatto scenico, perché poi fondamentalmente questi personaggi pubblici avevano proprio tra le loro priorità quella di impattare sul loro pubblico, sul loro popolo, e quindi era importantissimo anche ricostruire questo tipo di impatto. Diciamo che se un vestito funziona o no deriva anche molto da questo, cioè dall'efficacia che riesce ad avere nei confronti poi di chi lo osserva, di chi ti guarda. E poi c'è la parte diciamo scientifica, di studio, ho fatto qualche pubblicazione sul tema, sempre un po' della politica religiosa massenziana, perché insomma la ricostruzione, la rievocazione per me è una stampella per lo studio, non è una cosa fine a se stessa, diciamo che è una cosa che dà solidità allo studio e in qualche modo lo rende un po' più divertente, cioè è come quando ti prendi una medicina che sta un po' de fragola, te la bevi più volentieri, ecco il senso è un po' quello. E non dimentichiamo poi che Marco ha ideato e conduce una trasmissione su Canale 10, giusto? Canale 10? Sì, sì, Canale 10. Quindi che è una rete, solo nel Lazio si vede o in tutto? In generale del Lazio, però nel Lazio è alla posizione numero 10, quindi insomma è il primo canale regionale del Lazio. Perfetto, è il sabato sera alle 20 e 30, giusto? Sì. Ok, e poi tra l'altro le puntate sono quasi tutte o tutte disponibili sul tuo canale YouTube, quindi diciamo che oltre ovviamente a questa attività fisica in cui vengono fatte queste ricostruzioni, queste attività a cui io ho avuto anche il piacere di partecipare a un paio, quindi sono anche molto faticose perché io poi da solo da comparsa, io ho assistito prima del Covid a una propria esibizione, mi verrebbe dire teatrale, ma è riduttiva, in cui Marco appunto, vice appunto sull'appia antica, ha fatto una serie di, come possiamo chiamarle, di scene in cui appunto veniva raccontata in maniera molto breve la vita di Massenzio e gli elementi importanti, anche dell'importanza che Massenzio ha avuto nella storia romana, nella tradizione romana e soprattutto quello che magari sarebbe potuto essere e purtroppo non c'è stato per le vicessitudini interne, intestine anche della stessa società politico-istituzionale del periodo tardo-imperiale. Quindi diciamo, detto questo, ma non sapevo del canale di Marco, me lo sono perso nel cammino, sì Marco ha un canale, si chiama Marco Cecini e lo trovate, lo trovate... Mi ricordo se è Massenzio tra parentesi Marco Cecini o se è Marco Cecini tra parentesi Massenzio. No, 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 te lo dico io, Marco Cecini tra parentesi Massenzio, l'ho visto prima per essere preparato, ho studiato, mi si può dire che posso sbagliare l'accento del cognome, ma non... Chi invito? Poi avere te come ospite, diciamo, poi come ospite, sei di casa, nel senso che non è che... No, no, l'onore è mio, sei il numero uno, veramente... Appena hai scritto, guarda, hai già avuto anche un nuovo iscritto, già così, così, magari ne avrai molti altri, spero mi darei una percentuale sugli iscritti, a parte i scherzi. Quindi, dicevamo, l'attività divulgativa, ma anche scientifica, perché appunto poi l'elemento della divulgazione è sempre accompagnato, è sempre sostenuto da un serio approfondimento di anni e anni, poi tra l'altro io devo essere... Marco mi ha stupito perché parla anche in latino, dice, uno dice, il latino è una lingua morta, ecco, Marco parla anche in latino, non è che parla in maniera corrente, che vai lì tipo i latinisti di smetto quando voglio, però vi posso dire che, diciamo, con lui la lingua latina diventa anche una lingua viva, in tutti i sensi, quindi diciamo che tanto di cappello per la... Sì, ecco, giustamente qualcuno dice Frankenstein e non Frankenstein, e anche diciamo che siamo a questi livelli, diciamo... No, non ho tutti i torti. Ci arriveremo, esatto, ci arriveremo, ma io vi dico così, tanto anche per sdrammatizzare, per rendere più piccanti, io ho studiato sempre francese, quindi diciamo ho una cultura francofila e mi ricordo che, mi sembra, all'esame di terza media, mi chiesero gli impressionisti e c'era dagli impressionisti Sisley, che era appunto, che era un nome inglese, cioè, in senso, era un pittore francese, ma aveva sicuramente un cognome inglese, e io stavo spiegando gli impressionisti, poi dopo me l'hanno chiesto di spiegarglielo anche in francese, quindi, e la professoressa francese pretendeva che dicessi Sisley, dico ma come, se in italiano si dice Sisley, perché, e quindi diciamo, anche il cognome inglese doveva essere francesizzato, perché appunto il pittore era francese, che vuol dire? Allora, cogn, lo chiamiamo cogn, perché, o cavour, cavour, perché è italiano, comunque diciamo, questi sono ovviamente degli elementi che ci permettono anche di capire come l'evoluzione della lingua, porto un po' l'acqua al mio mulino, dell'evoluzione della lingua che non è mai statica, ma per mille accidenti, come può essere l'ignoranza, o semplicemente il cambiamento anche di cultura, di atteggiamenti. Va bene, qui dice, che chiedono, latino classico o medievale? A scuola ti insegnano quello ecclesiastico, che in grosso modo è datato al tempo di Carlo Magno, però quello corretto del latino diciamo romano sarebbe la lingua restituta che viene insegnata in tutta Europa, ma nei licei italiani no, non si sa perché, comunque non è che cambi chissà che, però qualcosina cambia, la C e la G sono dure, per esempio, non è legio, ma è legio, non è costituzio, ma è costitutio, per dire, non è valete, ma è ugualete, e quindi insomma queste piccole sfumature, però insomma noi in Italia ci insegnano quello ecclesiastico. Bene, allora poi ovviamente i commenti ce ne sono tantissimi che fanno anche altri riferimenti su altri esempi, ma arriviamo al nostro tema che ci accompagnerà per questa serata. Allora, il passo dallo studio, l'approfondimento di tematiche generali come possono essere appunto quella di Massenzio o quella di altri avvenimenti o diciamo correnti culturali eccetera del mondo dell'antichità ti ha portato anche a interrogarti sul nostro cognome che sin da subito, io mi ricordo anche sul dizionario di latino, Campanile e Carboni, che si notava come vi potesse essere dei richiami all'Etruria, quindi come degli elementi che in qualche modo portavano a ritenere il nostro cognome o comunque degli elementi molto affini alla località di Cecina, ma più in generale proprio all'attuale bassa toscana. Quindi raccontaci un po' come è iniziato il tuo interesse verso questa tematica, ovviamente diciamo da portare un cognome a dire voglio scoprire le origini del mio cognome a tutti i passaggi che in qualche modo ti hanno portato a inquadrare bene la situazione. Poi quando mi dici metto le slide del... Ma come tu hai detto nell'introduzione, insomma tutto nasce un po' dal nostro amato preside del liceo che per primo mi ha un po' fatto venire il dubbio, no? Perché comunque diciamo che noi dai nostri padri, ecco da zio Giuseppe che è tuo padre e da mio padre abbiamo sempre ricevuto diciamo la nozione che il nostro cognome si chiamava Cecini. Quindi nel pieno rispetto della regola generale dell'italiano che quando si ha un dubbio comunque o non si sa con precisione dove cada l'accento di una parola la si fa cadere sulla penultima sillaba. E chiaramente io all'epoca ero un ragazzo quando facevo il liceo non sapevo del fatto che nel caso di eccezioni legate a toponimi evidentemente i toponimi hanno un accento che fa da sé che non è legato a regole grammaticali ma è legato a una tradizione che va avanti da secoli, millenni quella è e quella rimane. E per la verità il nostro preside non mi disse tanto dei toponimi toscani adesso ci arriveremo ma lui diceva no ma guarda che pensa al perfetto del verbo cano cano, canis, cecini cantum, cantare appunto il verbo cantare quindi è proprio l'accento deve cadere lì ma non so magari lo diceva anche come butante però mi ha innescato mi ha acceso un po' una spia sono andato a controllare è emersa fuori questa famiglia etrusco-romana dei Cecina che veniva da Volterra così lì per lì insomma non gli ho dato troppa importanza mi incuriosiva mi ha messo un dubbio che mi è rimasto nella testa poi nel 2015 quando ho cominciato a fare un po' di ricerche in particolare sugli etruschi che sono una mia grande passione anche questo popolo etrusco mi ha sempre affascinato ho voluto un pochino riprendere in mano questo filo del discorso che era rimasto buttato lì dai tempi del liceo erano passati ormai anni quindi nel 2015 mi sono messo a fare delle ricerche più sistematiche ed è emerso che effettivamente questa gens cecina a Volterra in Etruria non si sa bene se sia nato prima l'uovo o la gallina cioè se è la famiglia ad aver preso il nome dai luoghi in cui possedeva diversi territori in cui era una famiglia assolutamente importante e eminente o se è la stessa importanza della famiglia addirittura ad aver avuto una tale eco ancestrale da imprimersi poi nei luoghi che essa ha frequentato che essa ha gestito è probabilmente la seconda perché vedete il toponimo cecina non è soltanto nella Val di Cecina il fiume Cecina la cittadina di Cecina nella provincia attuale di Pisa ma addirittura arriva a ridosso di Massacarrara c'è Piano di Cecina che sta praticamente nelle cave di marmo di Massacarrara ci sono altri toponimi nella pianura padana e questa area in cui emerge questo toponimo è proprio l'area dove gli storici pensano che la famiglia dei Caicna o Caicna che dir si voglia questa famiglia etrusca vedete come suona duro come nel latino restituto per l'appunto che poi la famiglia Caicna che in tempi latini ormai è diventata romanizzata assorbita completamente da Roma diventa inizialmente Caicina con la I greca che poi si trasforma col tempo nel dittongo A I greco va a trasformarsi in K E K I diventa K E quindi da Caicina in Caicina e poi Cecina e questa famiglia Cecina probabilmente è quella che ha impattato sul nome di questi luoghi e la direttrice di espansione se mi metti un attimino la mappa adesso mi farebbe molto comodo vi faccio vedere questa qui è l'Etruria degli Etruschi prima di Roma voi potete vedere per l'appunto che c'è questo quadratone in alto immediatamente sotto partendo dall'alto c'è un rettangolone arancione e poi subito sulla sinistra c'è vedete Volaterre quella è Volterra quindi vedete che era un'area molto larga che va praticamente dall'attuale Livorno fino a Piombino lato Tirreno e poi viene delimitata dall'Arno diciamo verso Firenze l'Arno che la contorna fino ad arrivare ai territori di Vetulonia e di Arezzo quindi era un'area sterminata che inglobava addirittura fino alla Val d'Elsa ma non solo i toponimi legati a questa famiglia Caicna che si sarebbe fatta promotrice di una particolare espansione commerciale militare anche nella pianura padana arrivano come vi dicevo fino alle cave di Massacarrara ma arrivano addirittura fino all'Emilia Romagna e questa stela che voi vedete sull'altra parte esatto toccava anche l'Emilia lo sto dicendo perché questa stela che voi vedete è la stela di un tale Bel Caicna infatti è una stela funeraria che recita in etrusco Misuti Bel Caicnas cioè io sono la tomba di Bel Caicnas e chi era questo Bel Caicnas è niente poco di meno che l'ammiraglio della flotta etrusca di Spina che era uno dei porti etruschi sull'Adriatico quindi voi capite che questi si erano spinti addirittura fino all'altra parte di Volterra dalla parte opposta avevano colonizzato e creato degli scali delle rotte commerciali chiaramente puntellate da insediamenti fino all'altra parte dell'Appennino e ovviamente ogni insediamento lasciavano il loro nome come si lega questa storia con la nostra ora partiamo da un presupposto lo voglio dire per i tanti amici storici appassionati di storia che mi seguono e non voglio dare l'impressione di essere uno psicopatico perché sarei uno psicopatico se io dicessi che si può dimostrare un qualche collegamento diretto fra la famiglia dei Cecina etrusco-romani e la famiglia medievale dei Cecini ovviamente no non è assolutamente dimostrabile perché perché in mezzo ci sono troppi troppi secoli in cui non abbiamo alcuna documentazione nonostante la famiglia dei Cecina sia estremamente longeva fra le più longeve perché noi conosciamo i Caicna nel sesto secolo avanti Cristo e sappiamo che che i Cecina arrivano addirittura fino al quinto sesto secolo dopo Cristo vi rendete conto di che di che durata incredibile per una famiglia riconducibile allo stesso ceppo familiare quelli di Cecina volterrani li abbiamo praticamente dall'Etruria dall'Etruria indipendente dall'Etruria delle Lucumoni etrusche fino ai tempi di Teodorico e oltre tra l'altro mi permetto di dire che io anni fa ad Aquileia avevo trovato un'urna cineraria che ho scritto Cecina quindi diciamo che il discorso dell'Adriatico che giustamente dicevi tu ha una sua propagine anche nell'Alto Adriatico quindi diciamo è un elemento molto ramificato sì diciamo che poi quella stella lì credo che sia di primo o secondo secolo cioè in un'epoca in cui ormai l'Etruria indipendente non esiste era tutto romanizzato ma che cosa era successo una cosa molto interessante e si ricollega anche al discorso di Massa Carrara in pratica questi ex Lucumoni o comunque ex classe dirigente etrusca in realtà integrandosi poi nella società romana e nell'impero romano ci va addirittura a guadagnare perché determinati traffici commerciali che prima gestivano non vengono pregiudicati anzi vengono rilanciati su una scala addirittura più ampia che diventa non più nazionale ma mediterranea ad esempio alcuni storici hanno ipotizzato che questi Cecina se da etruschi gestivano probabilmente il mercato il commercio dell'alabastro che è la pietra più nobile più famosa che c'è nel circondario di Volterra tutte le urne in alabastro famosissime insomma in epoca imperiale probabilmente gestivano anche il mercato del marmo lunense quindi del marmo nobile del marmo da edilizia romana tipico e probabilmente lo esportavano anche fuori dall'Italia e hanno fatto dei soldi in quantità industriale dopodiché con questi soldi sono riusciti a comprarsi delle carriere anche all'interno della società romana diventando grandi generali funzionari prefetti dell'urbe consoli insomma quindi capite che il loro potere non è stato ridimensionato con la perdita dell'indipendenza ma addirittura è stato amplificato dalla grande cassa di risonanza di Roma e c'era stato anche dei collegamenti con la famiglia Licinia per esempio giusto? allora si si pensa si pensa che in antico in antico perché chiaramente questi Cecina assurgono al consolato in epoca piuttosto tarda mi sembra il primo console sia stato Aulo Cecina Severo nell'anno 1 avanti Cristo e quindi capite in maniera piuttosto tardi diciamo prima di ciò la loro classe era quella degli equestri e quindi loro cercavano delle clientele con i senatori romani con diciamo personaggi abbienti di Roma infatti noi sappiamo che i Cecina nel primo secolo avanti Cristo erano molto probabilmente una famiglia clientes di clientes di Cicerone tant'è che Cicerone ne parla benissimo li difende c'è anche una sua orazione pro Cecina nella quale diciamo difende un suo assistito che era anche un suo amico e un suo cliente diciamo poi probabilmente riescono ad avanzare di carriera e assurgono al Consolato e da quel momento in poi forse non hanno più bisogno del patrocinio dei Licini ma in epoche precedenti appunto prima di assurgere a questi vertici è possibile che l'agenza Licinia molto più potente Licini era un Licinio l'uomo più ricco di Roma li avessero presi magari sotto la loro ala politica ecco questo è il tema è una cosa che mi avevi accennato è il fatto di una grande capacità di adattabilità e di poter cambiare nel tempo le proprie attività per trovare diciamo le cose più interessanti più profittevoli più vantaggiose quindi una capacità anche di intelligenza nel poter cogliere le occasioni giusto? Assolutamente sì questo poi è tipico in realtà proprio della nazione etrusca se pensate per esempio ai tantissimi etruschi che proprio approfittano del passaggio dell'assetto statale di Roma dalla Repubblica al Principato con Augusto e quali sono i personaggi che circondano Augusto? Sono tutti etruschi Cecina Augusto aveva un generale che si chiamava Cecina era uno dei generali dei luogotenenti di Augusto Agrippa Vipsanio Vipsania è un agenz etrusca Mecenate Icilni è un agenz etrusca quindi tutto l'entourage di Augusto era etrusco quindi questi personaggi pieni di talento molto ambiziosi molto versatili riescono effettivamente a sfruttare questo cambio epocale per passare alla ribalta della storia da quel momento non smettono più perché come dicevo addirittura nel quinto secolo avanti Cristo nella prima metà del quinto secolo noi abbiamo due prefetti dell'urbe e nel tardo impero romano una volta sconfitto Massenzio e quindi praticamente smilitarizzata l'Italia il prefetto dell'urbe era praticamente si può dire la più importante carica che c'era in Italia tolto l'imperatore d'Occidente il prefetto dell'urbe era il non plus ultra insomma una carica fondamentale e abbiamo ben due Cecina di cui uno restaura addirittura il Colosseo noi abbiamo l'epigrafe che ce lo testimonia ma ancora ai tempi di Teodorico i Cecina Deci quindi questa branca dei Cecina che si imparentava anche con la famiglia dei Deci erano fra alcuni dei gerarchi di Teodorico re degli Ostrogoti quindi insomma è stata una famiglia che ha saputo sempre in qualche modo proiettarsi anche a dispetto di rovesci politici insomma voi direi gli Ostrogoti insomma i Romani ormai vivevano in uno stato di subordinazione rispetto al potere del re Ostrogoto eppure nonostante ciò i Cecina erano fra le famiglie che erano riuscite a ritagliarsi uno spazio anche in questo potere questo è molto interessante e il passaggio successivo nel senso abbiamo visto appunto come l'evoluzione dal periodo repubblicano a quello diciamo imperiale una progressiva influenza una progressiva anche capacità di guadagnare posizioni sotto l'aspetto economico commerciale politico e come continua la storia nel senso allora continua allora il primo dato diciamo documentistico che io sono riuscito a trovare sulla famiglia dei Cecini di Volterra e premetto che noi noi veniamo diciamo per quello che noi siamo riusciti a ricostruire quindi padri nonni bisnonni noi veniamo dall'Abruzzo dall'Abruzzo ci siamo trasferiti a Roma però i più anziani di noi della nostra famiglia hanno un ricordo nitido del fatto che il primo a trasferirsi in Abruzzo a prendere armi e bagaglie e a spostarsi in Abruzzo è stato un tale Giacomo Cecini che si è mosso proprio dall'area del Senese quindi non da Siena città probabilmente ma dall'area del Senese quindi quell'area compresa grosso modo fra Volterra e Siena sono quei 50 km dove sta la Val d'Elsa per capirsi insomma quella zona tra l'altro bellissima io ci vado spessissimo perché sono innamorato magari forse il sangue che mi chiama chi lo sa comunque il primo di noi a venire in Abruzzo è partito proprio da lì quindi è lì che noi dobbiamo ritrovare le origini della nostra famiglia e guarda caso la il primo la prima il primo documento dei Cecini di Volterra quindi vedete sempre Volterra esattamente come i Cecina etrusco-romani torniamo a Volterra non in un'altra città torniamo lì sempre lì è datato al 1296 lo vedremo ma voi direte ho capito ma fra il VI secolo e il 1296 succedono un sacco di cose e infatti è per questo motivo che io vi ho detto noi qui stasera stiamo così ci divertiamo ricostruiamo ipotizziamo ma la certezza storica non è possibile averla in quanto ci sono troppi secoli di buio documentale tuttavia c'è una cosa che mi farebbe molto piacere di dire e cioè in località vada Volterra che si trova a ridosso del mare vicino proprio alla città di Cecina quindi siamo rispetto a Volterra siamo più spostati verso il mare ecco lì degli scavi archeologici hanno identificato una villa una villa monumentale romana che si chiama San Vincenzino no non è questa ora ora dopo ti dopo ti spiego anche queste cose qua la lasciami questa lasciami questa dopo ora te le spiego hanno trovato una villa che in località San Vincenzino questa villa è datata dal primo secolo avanti Cristo quindi vi ricordate cioè siamo proprio ai Cecina di Cicerone è il primo momento in cui i Cecina romani cominciano un po' ad arrivare alla ribalta delle cronache romane proprio come eminenti personaggi romani e ha una datazione stratificata addirittura fino al VII-VIII secolo la fase di maggiore splendore è quella del IV secolo guarda caso corrispondente proprio alla narrazione di Rutilio Namaziano avrete questo nome non vi tornerà nuovo perché è il personaggio protagonista di un bellissimo film di eredito suo tu l'hai visto Giovanni questo film? no ammetto lo devo vedere è veramente bellissimo e descrive la Roma dell'Italia dei tempi di Onorio l'impero romano dei tempi di Onorio siamo ormai nel V secolo quindi ci sono state le invasioni barbariche sono cominciate c'è uno stato di degrado comunque del tessuto sociale delle infrastrutture le persone anche questo letterato coltissimo Rutilio Namaziano percepisce proprio il senso di decadenza e ne narra all'interno di questo viaggio da Roma verso i suoi territori famiglie d'origine che sono appunto in Gallia e durante questo percorso lui attraversa appunto l'Italia verso nord e si ferma nella casa nella villa di un suo amico che era proprio questo Cecina Albino e si pensa che la villa dove Rutilio Namaziano si ferma passa la notte e che ci descrive sia proprio la villa di San Vincenzino che noi abbiamo ritrovato e che era splendida all'epoca ecco cosa succede dopo quando arrivano appunto le guerre gotiche vent'anni di guerre che devastano l'Italia poi arrivano i Longobardi gran parte dei senatori italiani vengono italici vengono vengono uccisi o comunque vengono cacciati nelle aree sotto controllo dell'impero bizantino romano bizantino e quindi che fine fanno questi questi aristocratici italici muoiono tutti no questo sarebbe implausibile da pensare perché dobbiamo ritenere che dobbiamo pensare che i Longobardi erano pochissimi è vero che la popolazione italiana era stata drasticamente ridotta dalla pestilenza dalla peste di Giustiniano e dalle guerre gotiche vent'anni di guerre di carestie quindi la popolazione italiana probabilmente era scesa da circa dieci milioni probabilmente alla metà magari cinque milioni quattro quattro mi sembra un po' poco diciamo la metà dimezziamo cinque milioni ma i Longobardi erano centomila centocinquantamila parliamo veramente di una classe dirigente esigua per poter controllare comunque delle porzioni di territorio vaste come quelle che i Longobardi si ritroveranno a controllare praticamente tutto il nord del centro Italia con l'eccezione della Romagna e del famoso corridoio bizantino che collegava la Romagna fino a Lazio avete presente lo stato pontificio ecco quello lì ricalca i territori che l'impero romano d'Oriente era riuscito a salvaguardare dalla dominazione Longobarda nel centro Italia ma insomma tutto il resto del nord era loro quindi come potevano dominare dei territori così vasti senza appoggiarsi in una certa misura a un ceto dirigente preesistente certo è chiaro che questo ceto dirigente deve essere passato da una posizione di preminenza a una posizione di sudditanza ed è il motivo per cui molti storici molti medievisti parlano di una duplice nobiltà in Italia di una duplice classe dirigente in Italia i grandi feudatari che sono chiaramente di origine germanica in molte aree del paese soprattutto nord e centro Italia insomma eri di origine Longobarda o di origine Franca ma poi c'è tutta quella nobiltà più piccola che era quella che gestiva i territori di questi grandi feudatari e questa qui secondo me secondo anche molti storici è del tutto plausibile che potesse essere quella quello quel sostrato di aristocrazia di viceto dirigente italico che non è stato sterminato è stato semplicemente aggiogato e questo straordinariamente sì 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 certo occupavano anche il sud Italia alcune parti del sud Italia non tutta però per esempio i Ducati di Benevento e di Spoleto erano Longobardi assolutamente questa cosa che vi dicevo adesso potrebbe uso assolutamente il condizionale essere dimostrata da alcuni ritrovamenti archeologici sempre in San Vincenzino datati proprio all'epoca Longobarda in particolare al passaggio fra la dominazione Longobarda e quella Franca quindi siamo fra la fine del settimo secolo scusate no ho detto una bestialità siamo fra la fine del settimo secolo e l'inizio dell'ottavo quindi siamo nella piena età Longobarda piena i franchi arriveranno un secolo dopo e che cosa hanno trovato a San Vincenzino hanno trovato una necropoli questa necropoli è molto interessante perché perché innanzitutto ci dimostra che non vi erano sepolti personaggi riconducibili a etnie germaniche non erano germani quelli che erano sepolti lì erano italici e poi soprattutto sembrava una comunità che aveva cercato di mantenere a livello endogamico i propri matrimoni cioè di farli all'interno della comunità nei limiti del possibile quindi sembrava adesso non voglio dire però queste cose sono insomma abbastanza indicative e non ci sarebbe niente di strano se questi magari proprietari conosciuti fino al quinto sesto secolo proprietari di quelle terre proprietari di quella villa arrivano dominatori stranieri gli chiedono di gestire quei territori per loro loro sono i nuovi padroni quindi quello che aspettava prima a loro cioè i due terzi della raccolta o comunque di più da adesso in poi sarebbero spettati ai veri feudatari quindi questo denota un impoverimento dei proprietari italici però non un totale annientamento comunque loro rimanevano come stadio intermedio fa i padroni e i servi i contadini a gestire quei territori e questo da cosa è dimostrato dal fatto che incredibilmente sono stati ritrovati in questo insediamento in questo lasso temporale dei beni comunque di lusso per l'epoca ad esempio sono state ritrovate le tracce di beni di importazione come poteva essere per esempio vino dalla Palestina e capite che vino dalla Palestina non lo prende il contadino il bracciante far arrivare vino dalla Palestina in Italia in Toscana a quell'epoca nel VII-VIII secolo a.C. richiede un minimo un minimo di agiatezza un minimo di contatti quindi questa potrebbe essere la dimostrazione archeologica della sopravvivenza di un ceto diciamo abbiente dirigente italico chiaramente non più dominante questo lo diciamo chiaramente che però man mano che l'integrazione fra Longobardi e italici procedeva e noi lo sappiamo per certo che a un certo punto quando arriveranno i franchi un secolo dopo quindi diciamo nel 774 arriveranno i franchi ormai non si fa più nessuna differenza fra italici e Longobardi si parla di regno Longobardo ma è un regno italico la popolazione si è completamente fusa ecco perché la Delchi di Manzoni oggi fa ridere gli storici perché noi sappiamo che archeologicamente dopo due secoli la fusione era avvenuta e quindi se un secolo prima questo ceto è sopravvissuto pur impoverito pur ridimensionato ma è sopravvissuto con funzioni dirigenti con funzioni gestionali allora si potrebbe anche pensare che man mano che l'integrazione prosegue questo ceto abbia cominciato pian piano a riappropriarsi di porzioni sempre più ampie di importanza all'interno della loro zona della loro zona ancestrale atavica e arriviamo così al primo documento che noi abbiamo siamo nel 1296 guardate che questo è estremamente interessante perché è proprio l'epoca in cui in Toscana si comincia a innescare quel meccanismo dei liberi comuni e cioè i comuni le città cominciano in qualche modo a sviluppare delle proprie magistrature che sono magistrature assolutamente democratiche all'interno delle magistrature dei comuni c'era tanto il nobile il patrizio che veniva dal contato e che voleva però avere un ruolo in città ma poi c'era il mercante che magari quel ruolo se l'era comprato e poi c'era il capitano il comandante degli armati che era umile non era ricco e però aveva la saggezza della guerra e quindi la sua voce in capitolo contava quindi capite che questi consigli cittadini erano estremamente democratici e le città erano talmente ricche talmente potenti che la loro voce spesso si faceva ascoltare addirittura dai feudatari delle campagne che non avevano la forza militare di potersi opporre a quella che era una richiesta di una città ma vi rendete conto della forza di comuni come Siena come Firenze come Arezzo come la stessa Volterra città che faranno la guerra a entità feudali molto più grandi sulla carta ma molto meno forti dal punto di vista economico e conseguentemente anche militare e che cosa sappiamo noi nel 1296 sappiamo che uno di questi condottieri che dal contado in particolare dal borgo fortificato di Pignano che ancora oggi voi potete andare a visitare lì vicino vicino Volterra si chiama Borgo Pignano è un bellissimo castello fortificato importantissimo per il controllo del territorio che collegava Volterra con Siena il signorotto di quel castello era un tale Cecino di Neri Cecini quindi voi vedete qui già in maniera molto chiara che abbiamo un nome che è Nero scusate è Cecino ecco e abbiamo poi Cecino figlio di Neri che probabilmente Neri è un diminutivo di Ranieri che è un nome medievalissimo insomma si chiamano tutti i Ranieri del medioevo Cecino di Ranieri Cecini quindi abbiamo il nome e abbiamo il cognome ecco questo è il primo il capostipite di quel capostipite noi non sappiamo se c'era qualcun altro prima di lui probabilmente sì solo che non ne abbiamo le fonti le fonti documentali però se uno già sa che si chiama Cecino di Neri Cecini probabilmente Neri Cecini aveva un padre che a sua volta aveva trasmesso a lui il suo cognome e via discorrendo però ripeto non ne abbiamo la documentazione ma probabilmente la famiglia è più antica del 1296 in tutti i casi un erudito volterrano del XVIII secolo Raffaello Scipione Maffei Maffei è un'altra famiglia nobilissima di Volterra come i Leonori come gli Inghirami come i Masucci come i Guarnacci sono tutte famiglie nobilissime di Volterra che in questi secoli XVII XVIII secolo si erano dilettate con la storiografia del loro territorio della loro città ricostruendo le genealogie illustri delle famiglie che loro conoscevano benissimo dei loro amici dei loro concittadini e ricostruendo la genealogia della famiglia Cecini appunto Raffaello Scipione Maffei fa cominciare il punto iniziale della sua ricostruzione perché prima di questo non è riuscito evidentemente a trovare dei documenti proprio da Cecino di Neri Cecini che ci descrive qui una guerra condotta dalla città di Volterra per appropriarsi di un altro borgo che non mi ricordo il nome di questo piccolo borghetto che Volterra voleva fare suo ma in tutti i casi insomma cercava di puntellare la difesa del suo territorio perché erano tutti luoghi strategici allora di un attimo di qualcosa così Giovanni io mi faccio la voce allora intanto io ringrazio Marco per questa sua puntuale ricostruzione perché appunto io come ho avuto modo di parlare anche per la preparazione di questo video Marco so che ha dedicato veramente tanti anni a questa a questa tematica anche in maniera caparbia nel senso è stato meticoloso anche nonostante le possibili poche attenzioni che possiamo aver rivolto gli altri componenti della famiglia è stato da solo ha deciso in maniera autonoma di voler portare avanti questo discorso contro anche tutti nel senso che aveva come interlocutori poteva avere me poteva avere mio padre che in maniera altrettanto risoluta non ammettevamo nessun tipo di variazione all'accento del cognome quindi diciamo potevamo guardare con estremi interessi e apprezzamento questi suoi lavori poi io che sono un po' più ferrato nella storia contemporanea avrò un modo di farvi vedere leggere alcune cose che ho rintracciato dell'ultimo secolo quindi in qualche modo cerchiamo anche di fare una sorta di filo rosso che purtroppo ha degli elementi mancanti come giustamente ha detto Marco perché non è che ci sono tutte non si riesce a ricostruire un albero genealogico già ci fermiamo già ci fermiamo con tante con tante difficoltà a metà dell'ottocento e già ci sembra ci sembra tanto e anche ripeto con proprio oggi Marco mi chiedeva ma non si riesce a trovare la tomba di Giacomo il nostro avo e dico il problema è questo che non esistono dei cimiteri così antichi in senso i cimiteri diciamo le tombe così antiche si possono trovare solo nelle chiese nel senso dove in qualche modo l'attività di conservazione di determinati personaggi ha una sua storicità ma i cimiteri quelli normali per i comuni mortali vengono vengono rasi al suolo vengono riutilizzati anche perché appunto anche le stesse i resti umani diciamo diventano polvere quindi in qualche modo finisce anche la funzione stessa del cimitero cioè il cimitero ha una sua valenza temporale nel senso che poi dopo tot tempo diciamo dopo che possono essere 20, 30, 40 50 anni al massimo 50 anni già è pure troppo nel senso a meno che non ci siano delle tombe di famiglia che in qualche modo conservino le cose quindi sicuramente è un lavoro molto molto difficile molto molto faticoso in cui però Marco è riuscito attraverso appunto soprattutto le indagini sul campo questo è un elemento che non mi stancherò mai di riconoscergli per la sua volontà anche con sacrificio per per le rispettive famiglie perché poi questo dobbiamo anche essere molto grati alle alle nostre compagne che in qualche modo ci supportano con con difficoltà non sempre ci ci capiscono però quando ci capiscono ci sono accanto quindi mi rendo conto che poi diciamo io mi immagino che la zona di Volterra sia bellissima però diciamo che forse la tua famiglia è un po' stufa di andare sempre là al senso vorrebbe andare da qualche altra parte e tu dici no ma anche quest'anno a Volterra che bella a Volterra specifico che tutte queste cose che in qualche modo cercheremo di ricostruire stasera io lo trovate sostanzialmente negli archivi nell'archivio storico di Volterra che è meraviglioso perché appunto c'è il lavoro straordinario di questi intellettuali di questi eruditi che che mi hanno semplificato il lavoro in maniera incredibile io non ho dovuto fare niente praticamente sono dovuto andare soltanto lì e leggere il loro lavoro già fatto metterlo insieme fotocopiarlo e basta era tutto già fatto da loro pazzesco e poi anche nell'archivio degli uffizi di Firenze perché come vi dicevo la famiglia si è ramificata Volterra Siena anche Firenze è attestata anche lì e dopo lo vedremo perché negli archivi di Firenze ho trovato proprio quello che poteva essere lo stemma della famiglia tra l'altro uno stemma che vi dirò molto interessante perché voi vedendo questa pagina di sinistra dove si narra questo episodio del 1296 eccetera voi vedrete che questi capitani volterrani che compiono questa azione militare erano capitani di parte guelfa e questo non è casuale e lo vedremo dopo con lo stemma che vi spiegherò comunque quello che volevo praticamente dire qual è che a Volterra a un certo punto e voi qualcuno di voi i più ferrati con la genealogia delle famiglie insomma nobili così avrà sentito sicuramente parlare della nobilissima famiglia dei Leonori Cecina loro sono eredi di questo nome antico ancestrale perché perché l'ultimo rampollo diciamo che aveva titolo di portare il cognome Cecina era un abbate abbate Antonio siamo ormai nel 1800 e quindi morì senza figli dunque volle che il suo cognome e i suoi beni venisse lasciati alla famiglia materna e cioè la famiglia dei Leonori da quel momento i Leonori associarono il nome Cecina a loro e continuano ancora oggi abbiamo moltissime persone che insomma la famiglia non ha perso il suo lignaggio illustre quindi ci sono molti generali politici locali amministratori imprenditori eruditi scrittori che si chiamano Leonori Cecina famiglia nobilissima ma voi vi chiederete ma scusa ma non era Cecini non è Cecina questa è la cosa interessante perché attraverso la genealogia di Raffaello Scipione Maffei noi abbiamo la dimostrazione che non parliamo di una famiglia diversa ma parliamo esattamente della stessa famiglia gli eredi di Cecino di Neri Cecini quindi Cecini era il cognome medievale originale Cecina è una riappropriazione che due personaggi Giovanni e Bernardo padre e figlio a cavallo fra il 400 e il 500 compiranno e cioè loro diranno noi ci sentiamo di essere gli eredi della famiglia Cecina etrusco-romana quindi vogliamo che il nostro cognome che ha subito nei secoli una storpiatura fonetica medievale torni a rifulgere di quella che era la sua iniziale pronuncia antica e quindi da ora in poi Bernardo tu che sei il primo genito ti chiamerai Cecina quindi che succede che se voi vedete questa genealogia Bernardo aveva tanti fratelli la linea ereditaria che parte da Bernardo praticamente aspetta ti aiuto Giovanni guarda è questa qui di sinistra di destra allora questa di destra è la prima e poi ci sta una insomma non riesco a leggere forse questa a sinistra questa a sinistra allora praticamente la linea che parte da Bernardo si chiamano tutti Cecina e arrivano fino al 1800 come ho detto fino all'abbate Antonio ma i suoi fratelli che poi alcuni abiteranno a Volterra altri si sposteranno in altre città ma comunque continueranno ad abitare tutti lì in quell'area in quella zona continueranno a chiamarsi Cecini che succede che il ramo Volterrano il ramo di Bernardo il ramo dei Cecina come ho detto si estinguerà e verrà assorbito dai Leonori ma tutti gli altri rami dei suoi fratelli e parliamo dello stesso sangue parliamo della stessa famiglia non è qualcosa di diverso sono i fratelli di questo Bernardo Cecina loro continueranno ad arrivare continueranno a vivere a esistere fino ai giorni nostri e il fatto che noi per quanto ci manchi quel collegamento di questo Giacomo dove è nato dove lo possiamo trovare questo manca manca per un motivo molto semplice che questo Giacomo probabilmente partì dalla Toscana dopo l'unità d'Italia noi abbiamo una testimonianza da parte degli storiografi che ci sono stati due grandi traumi economici e sociali che hanno scosso il tessuto del nostro paese uno è stato quello post unitario dove moltissime famiglie soprattutto delle città più piccole come potrebbe essere Volterra piccola città della Toscana dopo l'unità hanno subito veramente dei drammatici delle drammatiche ripercussioni economiche e moltissime famiglie originarie di Volterra originarie della Toscana sono state costrette a emigrare o fuori dall'Italia o verso altre regioni dell'Italia la nostra evidentemente ha subito questa sorte e si è scelto di spostarsi verso l'Abruzzo tra l'altro sempre per ricordo dei nostri nonni dei nostri bisnonni di memorie diciamo che vengono trasmesse all'interno della nostra famiglia perché vedete la nostra famiglia ha dimenticato la pronuncia del suo cognome e questo non deve stupire perché quando una famiglia viene sradicata dal suo territorio ancestrale dal suo territorio di origine da un territorio che esso stesso fornisce gli elementi per definire la propria identità se tu abiti vicino a un fiume che si chiama Cecina vicino a una valle che si chiama Val di Cecina vicino a una città che si chiama Cecina ma come vuoi che si chiami che si pronunci il tuo cognome se non Cecini per te è ovvio e naturale perché quella è la tua identità è lì che tu vivi e sei nato ma nel momento in cui tu vieni eradicato da quel territorio e ti sposti in un'altra regione dove nessuno conosce quei toponimi quei fiumi quelle valli e magari ignorantemente banalmente tutti quanti i cognomi la maggior parte dei cognomi hanno l'accento che finisce sulla penultima sillaba e anche tu vai a scuola si fa l'appello Cecini sii presente maestra questo reiterato per generazioni e generazioni e generazioni non corretto da un'educazione erudita perché noi sappiamo che ormai la famiglia dopo alcune generazioni negli anni 40 al tempo del fascismo addirittura poi Giovanni ve lo dirà non sapeva neanche più scrivere in italiano quindi pensate che tasso di analfabetizzazione poteva esserci in quelle zone col passare delle generazioni qui è del tutto normale che si sia persa la memoria storica la memoria culturale della propria origine del proprio cognome d'altra parte ieri un mio amico Francesco carissimo che lo saluto mi ha detto una frase illuminante la cultura non serve soltanto a creare nozionismo e ad aprirci la mente ma serve a costruire un'identità noi studiamo noi facciamo cultura perché perché a noi è necessario per capire chi siamo da dove veniamo ma anche dove andiamo come individui e come popolo insomma come società questo è normale questo è il senso della storia bene allora ti faccio un po' riposare un pochettino allora tu giustamente hai affrontato io andrei possiamo sempre tornare indietro ti faccio un attimo se vuoi andare a bere qualcosa diciamo perfetto allora giustamente tu hai affrontato il tema del del passaggio che grossomodo è contestualizzabile nella metà dell'ottocento tu hai posto il 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 fenomeno dell'unità l'unificazione italiana quindi diciamo grossomodo diciamo che 1861 che può essere un elemento di spartiacque tra quello che è accaduto prima e accaduto dopo noi abbiamo come una data importante quella di di Pietro che è il che era il nostro bisnonno che è diciamo il primo comune il il primo comune parente che abbiamo in via diretta che è nato nel 1876 ma già suo nonno perché c'era il padre Loreto e il nonno Giacomo che in qualche modo è è passato da la zona toscana io ho messo Siena come elemento diciamo di 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 capoluogo ma grossomodo diciamo per 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 capirci è arrivato a Paganica nei pressi dell'Aquila e poi si è sposato con una certa Marianna Sacchi che era specificatamente di Colle Calvo Colle Calvo che è il la frazione del comune di Monte Reale eh da cui provengono i nostri genitori che sono nati entrambi eh a Colle Calvo appunto nel il comune di Monte Reale come del resto la maggior parte di eh tutti quelli che sono diciamo nati fino al cinquanta grossomodo tutti tutti i nostri parenti che sono nati prima del cinquanta sono nati eh tendenzialmente eh a Colle Calvo e appunto eh l'elemento interessante che quindi la eh realtà di eh di provenienza eh di passaggio eh in Abruzzo potrebbe essere anche di peso da un elemento matrimoniale quindi questo ovviamente non possiamo non possiamo saperlo però l'elemento che eh vi fosse a Colle Calvo sia a Monte Reale questa signora questa giovane Marianna Sacchi e che questo Giacomo in qualche modo si è trasferito dalla Toscana è arrivato in in Abruzzo potrebbe essere di peso probabilmente da un elemento matrimoniale eh Giacomo ha avuto eh almeno un figlio da quello che noi possiamo sapere non so quanti figli potesse avere diciamo sicuramente ne ha avuto uno che si chiamava Loreto questo Loreto ha avuto quattro figli Francesco Pietro Agata e Giuseppe l'elemento interessante adesso poi andremo a capire anche bene questi eh questi nomi che in qualche modo sono anche ricorrenti perché questo questo Pietro che è un uno zio scusate scusate Giuseppe che è uno zio di Pietro poi torna perché appunto eh Giuseppe è il nome che è stato dato a mio padre quindi in qualche modo vi è un elemento eh di di questo eh di questo passaggio come Pietro ossia il nostro bisnonna è poi stato dato come nome a un a un altro eh a un altro eh cugino eh dei dei nostri rispettivi genitori mio e il papà di Marco come del resto i i rispettivi fratelli Domenico un cugino di di un cugino carnale di Marco si chiama Domenico e Giovanni mi ci chiamo pure io come si chiamava mio nonno quindi anche un elemento di eh passaggio dei nomi e in qualche modo giustamente Marco eh oggi lo ha ribadito come c'era un Giovanni Cecini di qual di in qualche modo io porterei il nome diciamo in maniera eh magari eh diciamo eh mio malgrado nel senso che giustamente Marco dice eh dovresti essere onorato e farti chiamare Cecini in onore di quella di quella eh di quella anticoavo anche perché appunto se Bernardo poi ha avuto diciamo il ramo secco della sua della sua della sua genealogia in qualche modo Giovanni ha acquistato una certa una certa valenza una certa importanza e appunto sempre per far risparmiare per far riprendere il fiato a Marco voi guardate questo questa sorta di albero genealogio che ho compilato io in maniera molto molto artigianale e ci sono delle foto delle foto accanto allora le foto accanto c'è un signore che era Pietro Pietro ossia il nostro bisnonno e due immagini della stessa persona della moglie Cristina che era la nostra bisnonna scusate un attimo in due momenti diversi uno un po' più un po' più giovane uno un po' più eh più d'anziana una donna che è rimasta vedova abbastanza abbastanza giovane considerate che mio nonno Giovanni era del 1917 e il padre è morto nel 27 quindi a 10 anni eh mio nonno già era orfano e di conseguenza eh la 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 madre era vedova sicuramente il primo figlio era del 1900 quindi in qualche modo non era giovanissima nel nel 27 diciamo sicuramente era già era già madre da 27 anni però in qualche modo sicuramente aveva un figlio di 10 anni che era eh un elemento di importanza e questo elemento della ehm del rapporto anche con gli eventi eh socio-economici giustamente Marco ha posto due eh due ehm due fatti due avvenimenti di storia particolarmente drammatici o quantomeno particolarmente diciamo di di cesura rispetto al passato quindi l'unità d'Italia e la seconda guerra mondiale e quindi è interessante come la seconda guerra mondiale o comunque il dopoguerra possa aver prodotto da parte della comunità dei Cecini barra Cecini di Monte Reale la necessità di emigrare ancora una volta e in questo caso l'emigrazione era verso Roma tant'è che oggi oggi eh a Colle Calvo a Monte Reale non ci sono praticamente più eh nostri parenti diciamo la la località veramente turistica nel senso di villeggiatura nel senso che ci si torna per andare al cimitero a trovare i morti che sono sepolti lì quelli di di seconda generazione ma in realtà poi non ci sono più eh gli abitanti sono veramente eh pochi e Cecini barra Cecini non ce ne sono più ma c'è un altro elemento particolarmente interessante secondo me che ci porta a poter eh trovare anche delle fonti aperte in questo caso questo è l'archivio informatico di Ellis Island ossia di dell'isola che si trova nel bacino nella baia di New York in cui ci dà delle determinate informazioni io nel 2006 sono andato a New York e in maniera abbastanza abbastanza così per perder tempo mi sono messo a mettere il mio cognome e ho trovato questi riferimenti che poi si sono rivelati estremamente interessanti perché perché intanto qui abbiamo i cognomi e una sorta di origine di partenza diciamo che io ho avuto modo anche di vedere i registri in formato elettronico che ovviamente hanno delle grafie particolarmente complesse anche con degli errori quindi diciamo che la compilazione riportare su schede informatiche le informazioni che venivano scritte in maniera diciamo dai funzionari per considerare che molti di questi erano erano analfabeti anche a New York sì anche a New York e praticamente ho riscontrato che Cecini o Cecini Giuseppe nel 1906 ed è questo con la fotografia questo con i baffi questo è il passaporto suo che diciamo attualmente è in possesso di mio padre che porta lo stesso nome e cognome nel 1906 è passato per Ellis Island allora diciamo che l'emigrazione verso gli Stati Uniti è stata temporanea perché sono persone che poi sono tornate in Italia tant'è che poi dopo hanno proseguito la loro vita facendo altri figli questo che abbiamo nel caso appunto di questo Giuseppe che è stato in America sicuramente nel 1906 è sbarcato ed è sbarcato anche nel 1913 quindi evidentemente tra il 6 e il 13 era tornato comunque in Italia per ritornare negli Stati Uniti nel 13 abbiamo Francesco che sempre nel 1906 va negli Stati Uniti Francesco per capirci è questo qua quello l'altro figlio di Loreto quindi questo Loreto ha avuto Francesco Giuseppe ma anche Pietro quindi dei tre dei quattro figli Agata è rimasta in Italia ma degli altri tre figli tutte e tre sono passati per Ellis Island perché anche Pietro Pietro Cecini nel 1913 ossia il nostro bisnonno è passato per Ellis Island Pietro aveva già due figli ossia aveva sicuramente Loreto nato nel 1900 e Domenico che è il nonno di Marco nato nel 1908 ma avrebbe avuto alcuni anni dopo Giovanni nel 1917 quindi in qualche modo è tornato in Italia quindi anche per lui la permanenza negli Stati Uniti è stata di breve periodo è stata di pochi anni evidentemente per una questione economica cercare di di farsi un gruzzolo riuscire in qualche modo magari a far arrivare la famiglia evidentemente poi nel frattempo c'è stata pure la guerra quindi la prima guerra mondiale quindi probabilmente c'è stata anche una problematica aggiuntiva rispetto a la diciamo lo vediamo poi all'ordine del giorno l'emigrazione non è che sia una cosa uno scherzo poi diciamo andare da solo è una cosa far ricongiungere con la famiglia è un altro discorso quindi in qualche modo però abbiamo anche quest'altro tassello che ci offre come alcuni e vediamo che i figli di Loreto di quattro figli ben tre in qualche modo hanno provato la strada americana poi sono tutti tornati quindi in qualche modo è stata un elemento di breve di breve di breve durata questa è una pagella di mio nonno Giovanni e vedete la cosa importante di Fu Pietro questa pagella è dell'anno scolastico questa è della quarta elementare di comune di Monte Reale interessante provincia Aquila perché all'epoca era ancora Aquila per la la definizione l'Aquila bisognerà aspettare la fine degli anni gli anni trenta ancora si chiamava Aquila come città anno scolastico ventisette ventotto e appunto Pietro era già morto perché appunto fu Pietro definito quindi Pietro era morto pochi mesi prima qui abbiamo una foto una foto che rappresenta la famiglia allora sicuramente la signora qui è la nostra bisnonna ossia Cristina Palmieri eccola qua abbiamo la moglie di Pietro per quanto riguarda i suoi figli qui è un po' più problematico non si riesce a capire purtroppo chi poteva darci delle informazioni è morto da da tanti anni quindi abbiamo questa foto che in qualche modo non siamo riusciti a identificare bene perché il giovane con la gravatta col cappello sicuramente è uno dei più grandi ma per il discorso dell'età visto è considerato che potrebbe essere Loreto nato nel 1900 però se fosse Loreto nel 1900 potrebbe essere quello mediano Domenico potrebbe essere Domenico ma questo non potrebbe essere Giovanni perché se tra Giovanni e Loreto c'è una 17 differenza significa che questo piccolo avrebbe 3 anni e questo avrebbe 20 e mi sembra piuttosto giovane per avere 20 anni questo con la gravatta quindi su questa foto purtroppo non abbiamo ancora le idee chiare potrebbe essere quello con la gravatta Domenico ossia il nonno di Marco e magari uno dei due è mio nonno però l'altro non si saprebbe chi fosse diciamo che secondo me la soluzione dovrebbe essere che quello più grande è Domenico nato nel 1900 1928 e uno di questi due è Giovanni nato nel 1917 però è anche qui molto campato per aria e hai ripreso con la voce o proseguo? no 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 ci sono ci sono ci sei? volevi aggiungere qualcosa su questo fatto o torniamo indietro? no 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 su questo su questo sei tu che ne sai molto più ok vogliamo tornare un passo indietro? quello dimmi tu se mi torni un attimo sulle diapositive quelle diciamo dei Cecina etrusco-romani così chiudo quel discorso e poi dopo torniamo su quelle ecco 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 allora prima di questa c'è un'urna allora quello che vedete sono le sale vai un po' la diapositiva precedente sono le sale del museo Guarnacci museo Guarnacci di Volterra ora voi dovete sapere Guarnacci come vi ho detto è una delle più eminenti famiglie volterrane con queste eminentissime famiglie volterrane i Cecini anche prima di diventare Cecina con Bernardo e anche dopo ovviamente entratterranno moltissimi matrimoni cioè per dirvi che questa famiglia diciamo sin dalla sua dalla sua origine diciamo dalla sua origine genealogica ecco dalla dall'inizio delle carte del del Maffei per capirci si vedono contrarre matrimoni con tutte le famiglie più prestigiose di Volterra Inghirami Masucci eccetera quindi insomma risulta un po' difficile dire sì ma questa perché io lo capisco benissimo che chiunque potrebbe dire sì vabbè ma magari Cecini era uno che coltivava i ceci si è chiamato così oppure valla a sapere eravate erano i figli di un tale cecio del medioevo e vi siete chiamati così va bene può essere che magari erano panettieri questi qua o che coltivavano i fagioli e però fatto sta che sin dal 1296 ininterrottamente per tutta la loro storia contrarranno matrimoni con le famiglie più prestigiose di Volterra cioè famiglie di cui se voi andate a Volterra trovate i palazzi palazzi Inghirami palazzo Guarnacci e via discorrendo tra l'altro ai Guarnacci soffurano proprio Cecina a vendere il loro palazzo nel 1663 e di questo noi abbiamo la fonte quindi per dire che succede che Guarnacci era un grande collezionista e la sua collezione di artefatti etruschi è stata poi destinata insieme alla sua biblioteca sterminata quindi noi abbiamo la biblioteca Guarnacci e il museo Guarnacci il museo Guarnacci è uno dei più famosi e più antichi d'Italia ed è uno dei più belli dal punto di vista dei reperti etruschi e qui vedete proprio un reperto che ci mostra un'urna funeraria di una nobile etrusca della famiglia Cecina infatti vedete chiaramente ecco qui potete leggere l'iscrizione sotto andiamo avanti con la diapositiva un secondo ecco qui quello che vedete qui sono dei busti della dinastia Giulio-Claudia Tiberio Augusto soprattutto perché Tiberio perché Tiberio era l'imperatore durante il quale vissero due fratelli famosissimi Aulo e Caio Cecina Aulo è stato Aulo Cecina Severo è stato un famosissimo generale dell'epoca augustea e tiberiana che ha combattuto per più di 40 anni è stato governatore dell'Africa governatore della Germania e addirittura combattere le guerre germaniche durante appunto il tentativo di Giulio Cesare Germanico questo nipote di Tiberio di punire i ribelli di Arminio per ciò che avevano fatto contro Varo distruggendo ben tre legioni ebbene Germanico e Cecina cercheranno di restituire a Roma l'onore Arminio con i suoi Germani tenterà una seconda imboscata terribile tipo una sorta di Teutoburgo 2.0 e ci mancherà veramente poco a che lui riesca a portare a compimento anche questa Teutoburgo 2.0 se non è che si ritroverà di fronte non Varo ma Aulo Cecina Severo che era un generale di tutt'altro livello e che quindi riuscirà a trasformare una disfatta annunciata addirittura Tacito ci racconta un episodio durante nella notte ci sarebbe questo generale nel suo accampamento con i legionari che stanno praticamente non dormono perché sono impauriti di non arrivare neanche alla luce del giorno che vengono uccisi prima e lui in questa dormiveia avrebbe visto il fantasma di Varo che gli tendeva la mano come a dirgli vieni è giunta la tua ora ma invece non andrà così perché riuscirà con una strategia sopraffina a ribaltare le sorti l'esito dello scontro e insomma Arminio riuscirà a scappare per il rotto della cuffia ma insomma quasi quasi ci lascerà anche le penne e quindi Cecina festeggerà un fastoso trionfo a Roma per questi successi in Germania esattamente questo Cecina Severo e suo fratello sono i due Cecina che vedete nell'iscrizione monumentale in questa sala del museo Guarnaccio dove si trovava questa iscrizione monumentale si trovava proprio nel famosissimo teatro di Volterra l'edificio più bello della città mi scorri ancora la di Tascalia la scusa l'immagine eccolo qua il teatro di Vallebuona il teatro di Volterra questo qui è stato costruito proprio dai due fratelli Cecina di cui vi ho appena parlato due consoli Aulo Severo nel primo avanti Cristo e Caio Cecina nel tredici dopo Cristo tra l'altro il busto di Tiberio importante perché non solo Cecina insomma opera diciamo nelle sue cariche più importanti anche la sua campagna in Germania si sviluppa durante il regno di Tiberio anche il suo trionfo eccetera ma Tiberio in onore di questa famiglia farà che venga istituito all'interno di Volterra il culto degli augustali cioè un culto imperiale un culto votato proprio all'immagine alla celebrazione della famiglia imperiale e guardate che questo era un grande onore un grandissimo onore un grandissimo onore per una città romana avere al suo interno un culto della famiglia imperiale e molto probabilmente io suppongo che fossero proprio questi due Cecina i depositari o quantomeno fra i depositari a celebrare questo importantissimo culto tra l'altro recentemente proprio a ridosso di questo di questo teatro questa è notizia proprio recentissima stanno scavando anche un anfiteatro quindi c'era un complesso proprio ludico un complesso spettacolare che univa il teatro con le celebrazioni diciamo di recitazione eccetera e poi c'era un anfiteatro per i giochi gladiatori ed erano in un unico complesso molto probabilmente e per quanto si stia ancora scavando quindi non vorrei dire cose che poi si riveleranno fallaci in futuro però le prime indagini sembrerebbero suggerire che la datazione per la costruzione di questo anfiteatro sia coeva di quella del teatro quindi vi rendete conto? vi rendete conto? questi probabilmente potrebbero aver costruito pure l'anfiteatro quindi hanno di fatto trasformato il volto intero di una città che smetteva di essere etrusca e diventava un grande municipio romano patrocinato quindi gli ex lucumoni o comunque gli ex aristocratici etruschi si trasformano negli emissari negli ambasciatori del potere di Roma e della sua capacità di monumentalizzare e trasformare il volto delle città qui c'è una domanda durante le guerre civili di Roma e Cecina da che parte sono stati? le guerre civili ce ne sono state un bel po' quali ti riferisci? sappiamo che un Cecina albino che è stato un altro famosissimo Cecina tra l'altro era di statura imponente un bellissimo uomo da quello che ci dicono le fonti Cecina albino e durante l'anno dei quattro imperatori quindi durante lo scontro fra Galba Otone e Viteglio seguente alla morte di Nerone Cecina fu uno dei generali principali di Viteglio quindi si era schierato dalla parte di Viteglio in questo frangente storico ma non so magari si riferisce a quelle del primo secolo avanti Cristo probabilmente questo è molto interessante perché noi abbiamo sicuramente sappiamo che c'è stato un Cecina che è stato un generale di Augusto infatti Mario Silla Cesare Pompena bene bene allora c'è stato sicuramente un Cecina che è stato un generale di Augusto senza dubbio però precedentemente un suo parente non sappiamo se il padre o un fratello ma perché spesso le fonti riportano Cecina ma non sempre mettono il nome quindi diventa oppure lo mettono però si chiamavano quasi tutti Aulo per esempio ci sono almeno tre generazioni di Aulo Cecina di cui ci parlano le fonti uno che era praticamente un famosissimo augure di cui ci parla Cicerone famoso in tutte in tutta l'Etruria famosissimo sia per essere un prestigioso augure cioè quindi proprio un sacerdote etrusco che l'augure è quello che traeva diciamo i responsi attraverso l'osservazione di fenomeni naturali eccetera sempre Cicerone ci parla probabilmente di un altro Aulo Cecina che era il figlio di questo augure e che ha scritto un trattato di disciplina etrusca questo qui è stato contro Cesare cioè lui era un repubblicano convinto tant'è che Cesare lo manderà in esilio però poi siccome era una persona buona cioè più che buona insomma una persona onesta una persona proba una persona assolutamente di livello che che godeva della stima di tutti e Cicerone si batterà anche per lui con Cesare cioè affinché sia richiamato dall'esilio Cesare lo richiamerà lo perdonerà però inizialmente si era schierato contro Cesare poi dopodiché nella generazione successiva avremo un altro Cecina di cui il nome ci sfugge ma che è stato uno dei luogotenenti di Augusto nella generazione ancora successiva avremo comunque più o meno contemporanea avremo questo Aulo Cecina Severo che è stato uno dei maggiori dei maggiori generali di Augusto sarà console durante il regno di Augusto e poi continuerà ad essere uno dei generali del successore di Augusto cioè Tiberio bene proseguiamo allora andiamo un attimo a vedere i documenti quelli ecco qua ecco qua allora questo qui io l'ho trovato all'interno dell'archivio degli uffizi di Firenze infatti voi vedete che c'è poi il timbro uffizi e praticamente è uno stemma della famiglia Cecini loro dicono o di Cecino perché perché probabilmente ipotizzo probabilmente anche eh chi ha redatto questi archivi ha fatto la medesima ricerca fatta da Raffaello Scipione Maffei il quale aveva visto che il primo capostipide cioè il punto iniziale dietro il quale non si riesce ad andare è Cecino di Neri Cecini nel 1296 quindi probabilmente di Cecino perché per dire i Cecini di questa linea di questa linea di discendenza di Cecino ecco cosa succede qui vedete eh vi dico io i colori perché sono sulla raccolta ceramelli papiani che però non ho fotocopiato lì c'è il blasone con i colori questa invece è del fondo Guido Carocci sono i due fondi dai quali ho attinto per questi per questi per questi documenti praticamente c'è eh a sinistra abbiamo la spada con la croce su campo bianco e dall'altra abbiamo la spada senza croce su campo rosso e sono due spade appuntate si dice quando si toccano in un punto convergono in un punto si dice appuntate diciamo che il significato genealogico di questa eh di questa come dire di questo blasone di questa appuntatura di due spade tendenzialmente si ritiene che indichi il matrimonio o comunque la fusione di due famiglie che in qualche modo vanno appunto a unire le forze ecco come dire o se non di due famiglie sono due idee due comunque due cose che si uniscono due ideali due concetti spesso due famiglie proprio che contraggono un matrimonio e e nasce una nuova un nuovo ceppo familiare ma in tutti i casi diciamo il bianco rappresenta proprio è legato alla alla sfera religiosa cristiana c'è anche la croce quindi papale probabilmente guelfa e vi ricordate i capitani di parte guelfa e dall'altra parte c'è il rosso il rosso sin dai tempi dell'antica Roma il rosso è la guerra il rosso è il colore della guerra del soldato quindi non è di facile interpretazione ma sicuramente è una famiglia che ha costruito la propria fortuna in qualche modo sulla sull'azione militare o comunque ha ricostruito la propria fortuna sull'azione militare con la spada in punta di spada e probabilmente ha unito due lignaggi difficile dire in che modo però questo dovrebbe essere il senso e che all'interno di diciamo degli archivi di Firenze io ho trovato anche che Teghiaio Teghiaio Cecini ecco vedete questo queste sono le qua sono alcune delle famiglie che appunto hanno la spada nel blasone e sono presenti sempre all'interno della raccolta Guido Carocci vedete che non tutte sono appuntate così alcune sono incrociate hanno un altro significato altre sono parallele hanno un altro significato un'altra è singola e c'è un altro significato ancora insomma io non sono uno studioso di Araldica quello che vi ho detto è perché ho cercato di capire un pochino però sugli altri non vi saprei dire perché ognuno ha il suo significato ovviamente però un tale Teghiaio Cecini nel 1300 è stato uno dei priori della città quindi per dirvi che non solo in Volterra ma addirittura anche a Firenze questa famiglia era riuscita in qualche modo a costruirsi delle fortune anche politiche perché i priori della città praticamente erano delle sorte di grandi consiglieri all'epoca nel 1300 c'era un dittatore una sorta di dittatore diciamo il duca di Atene che era così chiamiamolo un potestà si può dire non vorrei fare revancismi ma comunque sì una sorta di dittatore eletto dalla città che però si appoggiava al consiglio di questi priori e uno dei priori era Teghiaio Cecini e noi troviamo addirittura la firma di questo Teghiaio in un documento dove il duca di Atene a nome della città di Firenze firmerà una pace con la quale Firenze estenderà i suoi confini a scapito di altri territori limitrofi perché già in quell'epoca cominciava la sua espansione Firenze e questi Cecini già partecipavano alle fortune della città ecco qui torniamo torniamo appunto alle genealogie di prima queste sono estremamente importanti perché come vi dicevo qui il Maffei ha proprio diviso le pagine ora io non riesco a leggere però comunque ha diviso ci sono le ramificazioni dei Cecini poi a un certo punto all'interno dei Cecini ci sta proprio Giovanni e Bernardo Cecini tra parentesi vedi tavola 28 Cecina perché da quel punto in poi lui la discendenza di Bernardo non la mette più nel foglio dei Cecini ma fa un foglio a parte perché da quel momento i Cecina seguono una storia non a sé però diciamo ricostruisce la discendenza di questo cognome in qualche modo modificato alterato io trovo questa cosa estremamente importante estremamente interessante perché di fatto ci sta dicendo che anche i Cecina i famosissimi Cecina riveriti Cecina se voi andate a Volterra e parlate con chiunque che abbia un minimo di memoria magari ha una persona un po' un po' diciamo minimo di età ecco che che abbia una memoria anche culturale della sua città gli dice ma la famiglia Cecina è come no è estremamente famosa ma i Cecini sono la stessa famiglia non è non c'è nessuna differenza la differenza è soltanto in questa modifica peraltro indotta diciamo voluta da un eminente personaggio della famiglia Cecini che confortato dagli studiosi dagli storici e dagli eruditi del tempo Demtero Gori Flamio del Borgo eccetera assumerà il diritto di avocare a sé il cognome degli antichi etrusco-romani che lui sosteneva essere i suoi discendenti discendenti suoi e chiaramente anche di tutti gli altri che il cognome non l'hanno cambiato e gli eruditi e gli storici del tempo gli hanno detto secondo noi c'hai ragione quindi lo puoi fare gliel'hanno permesso e non solo gliel'hanno permesso lo hanno anche messo per iscritto su tutti questi documenti che io oggi sono in grado di provvedervi questo non significa che domani qualcuno denuncia Marco Cecini di millantare cose su youtube perché dice che lui è discendente degli etruschi no io non sto dicendo questo io sto semplicemente dicendo che fra il 1400 e il 1500 delle persone molto probabilmente imparentate con la nostra famiglia lo hanno sostenuto e che insieme a loro lo hanno sostenuto tutti gli storici e gli eruditi del loro tempo ed anche lo hanno sostenuto degli eruditi molto famosi del novecento come Luigi Consortini che è stato il più famoso storico del novecento di Volterra ha scritto moltissime opere sulla storia volterrana di pregevolissima fattura e proprio qui se voi leggete ecco Giovanni se tu vuoi leggere questo questo piccolissimo passaggio magari saltando il pezzo in latino però così mi fai riprendere un po' la voce ma è davvero interessante da leggere leggi dall'inizio perché all'inizio lui va anche a dare una piccola panoramica di quelli che erano i possedimenti storicamente tradizionalmente di questi Cecina e lui dice avendo tutti questi possedimenti poi lo leggerà Giovanni non sarebbe così peregrina l'ipotesi che rifugiandosi in alcuni di questi possedimenti del contado magari sottomettendosi al potere di queste popolazioni dominatrici queste elite militari dominanti accettando il loro dominio accettando il compromesso come già avevano fatto nei secoli precedenti lo avevano fatto con i romani lo avevano fatto con gli ostrogodi quindi era una cosa che era nelle loro corde nel loro DNA potrebbero essere sopravvissuti ai secoli più bui dell'alto medioevo per perché no tornare alla ribalta delle fonti documentali con l'ascesa del libero comune quando effettivamente con i liberi comuni si torna a mettere per iscritto nero su bianco la storia delle città prego Giovanni allora abbiamo Cecina di Bardine di Bardine si dice ok in Val di Magra campo Cecina sopra Carrara Cecina di Lamporecchio e nel Volterrano i fondi della Maremma indicati dalla famosa Villa Albini che doveva essere sicuramente ove nel secolo nono è ricordato un fondo detto Cecina di Ermerico Reggio Volantino numero 9 si presso l'odierna località di Bellora sulla destra del fiume Cecina tra Colle Mezzano e Riparbella e prospicente le valuti salse di Vada e non le pianure presso le attuali saline di Volterra come crede il Solari nella sua topografia d'Etruria essendo ben chiaro il testo di Rituio si tratta dunque del terreno paludoso intorno a Vada formato dalle acque marine e sottoposto alla non molto distante Villa d'Albino si interrompo 30 secondi lui lì è un errore di battitura lì è Rutilio Rutilio Namaziano appunto quello dell'eredito suo di cui vi avevo parlato precedentemente e lui sta descrivendo proprio la proprietà in località Vada Volterrana dove sorge la villa di San Vincenzino che è stata scavata e che si è rivelata una villa straordinaria una villa patrizia ricchissima che è data dal primo secolo avanti Cristo quindi I Cecina di Cicerone fino al settimo ottavo secolo dopo Cristo ok oltre questi fondi ne possedevano altri presso Colle Valdelsa e resta ancora il loro nome a una località con villa detto Cecignano divenuta famosa verso il 1540 per essere stata acquistata dal celebre Aonio Paleario che vi istituì un'accademia apparentemente dedicata allo studio all'interpretazione di Dante ma in realtà dedita alla propaganda delle sue dottrine eterodosse dal momento che i Cecini si dicono riundi di Pignano come spiegarvi il loro passaggio ebbero pur quivine dei fondi degli Etruschi Cecina ciò che è certo i Cecina furono sempre seguaci e difensori ostinati del paganesimo fino agli ultimi personaggi del secolo quinto si può giustamente supporre che in Volterra ormai in detto secolo totalmente convertita al cristianesimo i Cecina pagani ostinati e per gli sconvolgimenti politici non più potenti come i passati si siano trovati a disagio e per loro non vi sia rimasta che la via della campagna trascorsi vari secoli peggiori delle barbarie abbracciato il cristianesimo non sarebbe improbabile che abbiano fatto ritorno alle città d'origine ma chi può garantire queste supposizioni come provare la discendenza dei Cecini di Pignano dai Cecina di Volterra la asseriscono i signori Cecini e furono autorizzati a portare il classico antico nome il loro riferito e creduto a uomini dotti e deruditi come il Dempsterio il Gori Flaminio dal Borgo e altri comunque sia lasciando la cosa del suo enigma e vera gloria di questa famiglia di aver dato alla nostra città fino ai primi scusate che ho l'altra pagina aspetta che lo recupero ai primi anni del secolo quattordicesimo personaggi distinti nelle magistrature nelle armi nelle lettere e prelature da poterli in qualche modo considerare emuli degli antichi e fra tutti non dobbiamo dimenticare Sir Giovanni Cecini ambasciatore alle Repubbliche di Firenze e di Siena 1343 1346 e torniamo qui alla stessa identica datazione di Teghiaio Cecini priore della città di Firenze sono gli stessi decenni gli stessi decenni quindi come vedi parliamo di una famiglia che era ramificata già in quell'epoca dal 1296 1340 ramificata ormai in tutta la zona turno Cecina governatore di Velletri 1611 Bernardo Cecina lodato dal Dempstero per la sua erudizione il dottovesco Filippo Nicolao Cecina 1766 e il dottissimo Lorenzo Aulo Cecina il più giudizioso e migliore storico della nostra città nel secolo diciannovesimo anche questa famiglia venne meno e si estinse in quella pur nobilissima e antica dei signori Leonori la quale tramanda oggi unito al proprio il chiaro e vedusto nome dei Cecina etruschi esatto lui chiaramente parla si è estinto il ramo di Bernardo ovviamente si è estinto ed è stato assorbito dalla famiglia dei Leonori gli altri rami noi siamo la dimostrazione continuano ad esistere una cosa molto interessante secondo me è che vi ricorderete aspetta il flip prof a parte di una ricostruzione spettacolare di Volterra Cecina è quello che ha salvato i romani da Arminio era di Volterra sì esattamente esattamente Aulo Cecina Severo ha combattuto nella battaglia dei Pontes Longhi contro Arminio è un esercito sterminato di Germani che gli avevano teso un'imboscata ci sarebbe da fare un'altra puntata solo su questo ma è un evento bellico eccezionale praticamente i romani si ritrovano delle paludi davanti che non possono attraversare e i germani dietro quindi Cecina divide l'esercito in due a una parte dell'esercito dice di costruire perché questi Pontes Longhi in teoria c'erano già da prima li aveva costruiti Domizio e Nobarbo un generale romano precedente ma i germani li avevano distrutti ovviamente quindi quando arrivano i romani di Cecina con le sue tre legioni non trovano più le quattro regioni non trovano più i Pontes agibili quindi metà esercito ricostruisce i Pontes e l'altra metà fa la barricata contro queste orde germaniche mentre a pochi metri gli altri stanno ricostruendo questi Pontes quindi immaginate insomma va bene poi poi ci saranno ma anche perché questa battaglia dura tre giorni cioè sono tre giorni terribili grazie con l'occasione io saluto il mio amico carissimo Marco Mellace Fripped Prof che è straordinario strepitoso lo saluto caramente comunque vi stavo dicendo ricollegandosi al discorso precedente sapete quello del fatto che alcune aristocrazie o comunque una parte della classe dirigente italica probabilmente si pensa che i Longobardi siano arrivati abbiano fatto tabula rasa ma sicuramente non è così quasi sicuramente non è così perché dato il loro esiguo numero essi avevano bisogno di qualcosa che puntellasse il loro potere e chi meglio di una classe dominante che conosceva il territorio che stava lì da tempo e che poteva continuare a gestirlo facendo affluire presso di loro semplicemente le ricchezze che prima si prendevano per se stessi quindi diventa da classe dominante questa classe italica diventa una classe di potere di gestione del potere funzionale intermedia e noi sappiamo che nell'area della ex diciamo Volterra Etrusca dominavano al tempo i Gerardesca spostati verso l'area diciamo tirrenica del litorale mentre più nell'entroterra sappiamo che c'erano i Pannocchieschi entrambe queste famiglie nobilissime sono di famiglia di origine Longobarda quindi sono germaniche di origine e noi sappiamo che quindi il territorio di San Vincenzino dove è stata trovata questa questa necropoli dove appunto c'erano sepolti dei non germani quindi degli italici e addirittura questi erano abbastanza abbienti da riuscire a importare il vino dalla Palestina quindi erano impoveriti sì molto impoveriti però non erano proprio diciamo lo stato servile dei pezzenti ecco comunque c'era un minimo ancora di non dico agiatezza però insomma se la passavano meglio di altri ecco questo si può dire e quello era territorio successivamente sarà territorio dei Gerardesca mentre la parte di Pignano il castello di Pignano verrà fondato proprio dai pannocchieschi ora se noi prendiamo per buona la mia ipotesi di una nobiltà subalterna quindi non la chiamerei neanche più nobiltà la chiamerei una nobiltà decaduta ex nobili romani che si sono piegati per sopravvivere al dominio di famiglie germaniche che ormai erano i nuovi feudatari nuovi padroni accettando una posizione di subalternità e questo spiegherebbe anche perché i Cecini si siano ritrovati da parte dei pannocchieschi costruttori del castello di Pignano a gestire questo castello di Pignano questa potrebbe essere una possibile ipotesi proprio di una famiglia precedente che ha accettato il potere di queste nuove premettiamo che certamente si può anche dire che questi vengano da tutt'altra parte magari erano Longobardi pure sti Cecini di Pignano per quello che noi ne possiamo sapere noi non lo possiamo sapere ma sto cercando semplicemente di dare una ricostruzione coerente alla base di tutto quello che ci siamo detti stasera e che possa far in qualche modo combaciare le fin troppe casualità perché è vero il caso esiste il caso però insomma i toponimi nascono da Volterra la famiglia etrusco-romana è di Volterra questi pure sono di Volterra insomma diciamo che ci potrebbe essere un limite al caso ecco allora è possibile che il cognome Cecini derivi dai vari Aulo Cecina è quello che stiamo cercando di capire stasera io credo che sia possibile io credo che sia possibile c'era un'altra domanda che diceva diceva i Cecini stavano con i Guelfi chibellini mi sono permesso di dire i Guelfi visto che l'avevi detto prima e anche il discorso della croce la croce nello stemma ha dei riferimenti sicuramente alla chiesa sì paradossalmente se voi leggete le cronache insomma sembra se voi leggete le cronache diciamo del 300 molto spesso questi questi ceci e questi volterrani vanno a combattere contro i territori di un vescovo di un arcivescovo e voi dire di come non erano non erano non erano Guelfi che vanno contro l'arcivescovo diciamo che è un po' più complessa la questione nel senso che spesso e volentieri in queste epoche dell'alto medioevo insomma paradossalmente a volte i vescovi conti voi l'avrete sentiti a scuola ecco i vescovi conti erano proprio gestivano il potere per parte dell'imperatore in realtà non è non facevano tanto capo al papa cioè il loro diritto di governare su porzioni estese su vasti feudi per conto della chiesa erano appunto per no non era tanto per conto del papa di Roma ma per conto dell'imperatore perché così quando il vescovo diciamo moriva non c'era il figlio che ereditava e se ribellava tornava nelle mani del vicario dell'imperatore quindi molte città molti comuni si dicevano guelfi non tanto perché sono fedele al papa di Roma ma sono guelfo perché così me rosicchio i territori dell'imperatore diciamo era quello il senso un po' della questione guarda guelfi bianchi e guelfi neri ti dico la sincera verità in questo momento non ti so rispondere devo approfondire un po' di più non ti so rispondere per il momento diciamo erano guelfi democristiani nel senso che ottenevano quando quello che serviva bene senti ti riposi un po' con la voce sì assolutamente allora andiamo avanti allora siamo rimasti alla questione di 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 New York tra l'altro mi permette anche di fare una un breve passaggio sull'oggi prima di affrontare il tema degli anni 20 30 e 40 dove oggi la nostra famiglia o almeno il nome afferente alla nostra famiglia indipendentemente dall'accento che gli vogliamo dare è presente sicuramente a Roma con una decina di forse qualcosa di più siamo una quindi almeno una ventina diciamo una ventina di parenti salvo qualcuno che fa del stampo all'estero per altri per altri motivi nella zona di Sondrio che però è provenienza non proviene dall'Abruzzo quindi diciamo sono andati nella zona non lo so sì diciamo non sicuramente non sono della provenienza abruzzese almeno della nostra famiglia quindi in qualche modo sono arrivati in Valtellina magari sempre dalla zona della Basta Toscana ma diciamo non sono passati sicuramente per l'Abruzzo e poi da quello che possiamo sapere Marco ha intercettato qualcosa Pisa giusto mi correggimi sì ci sono non so se una o più famiglie ma sicuramente almeno una tra Livorno e Pisa ok ci sono comunque dei Cecini o Cecini negli Stati Uniti probabilmente magari provenienti sempre da dalla realtà Toscana o passando quelli della Valtellina e poi da quello che possiamo sapere diciamo anche per riferimenti di Facebook eccetera ci sono qualcosa in Francia quindi diciamo che la non è un cognome così diffuso ma che diciamo abbraccia delle zone particolari nel senso Roma qualcosa è una zona di Pisa qualcosa nella provincia di Sondrio e qualcosa all'estero diciamo però molto concentrato in determinate zone allora dicevamo qui eravamo rimasti con questa realtà un po' fisarmonica tra Monte Reale e gli Stati Uniti negli anni nei primi anni nei primi 15 anni del del novecento e abbiamo visto come la famiglia grossomodo è così composta quindi diciamo siamo arrivati a Pietro che è il nostro bisnonno che appunto è morto nel 1927 vi invito a vedere per quanto riguarda una nipote di Pietro questa Maddalena che fra un po' la rincontreremo che sarà una delle prime dei Cecini o Cecini di Monte Reale che arriverà a Roma perché sappiamo che arriva una delle prime diciamo se grossomodo il passaggio da Monte Reale a Roma avviene in maniera estemporanea immediatamente dopo la seconda guerra mondiale diciamo la guerra sicuramente i maschi erano stati mobilitati mio nonno per esempio stava nella zona di Trieste poi c'è l'otto settembre eccetera però diciamo il loro arrivo a Roma è a partire dalla fine degli anni quaranta cercando appunto di trovare fortuna perché poi sostanzialmente a Monte Reale svolgevano l'attività agricola l'attività dell'allevamento c'era veramente una situazione non non pienamente facoltosa era piuttosto povera in tutto e per tutto e vi farò vi leggerò alcuni documenti che lo vanno a testimoniare ma passando a questa maddalena io ho trovato in archivio presso intanto qui c'è una foto due foto particolarmente graziosa questo primo che fa il pilota era mio nonno che però non era un pilota questo era una sorta di fenomeno da baraccone era un'immagine dietro la quale se vedete questa signora che si appoggiava perché stava dietro a un paravento qui con questo aereo è il 33 quindi diciamo mio nonno aveva 16 anni quindi che è il senso del 17 quindi per capirci e questo che suona l'organetto è sempre mio nonno e si notano alcuni personaggi sono gli stessi questo col cappello dietro a mio nonno è lo stesso qui con questa maglia a righe quindi diciamo sono alcuni saranno degli amici dei parenti comunque diciamo mio nonno sicuramente era il questo che diciamo pilotava diciamo così e questo con l'organetto ma torniamo a Maddalena Maddalena quindi che era una una cugina di di Pietro quindi è il nostro bisnonno che così casualmente cercando eh all'archivio centrale dello Stato che è l'archivio che si trova all'Euro qui a Roma che raccoglie la documentazione riguardante eh gli uffici eh centrali gli uffici i ministeri gli uffici che in qualche modo hanno la competenza nazionale rispetto agli archivi di Stato delle province in cui ci sono custoditi documenti che riguardano gli enti territoriali pensiamo le prefetture le questure eh le appunto le intendenze provinciali eccetera e che è successo che nelle lunghe attese eh dell'archivio centrale dello Stato c'è tra le varie tra vari inventari cartacei c'è l'archivio scusate c'è la segreteria particolare del Duce che era praticamente che ancora è custodito tutte le lettere che venivano mandate a Mussolini anche delle persone qualsiasi che scrivevano a Mussolini per qualsiasi necessità molte volte erano delle richieste altre volte erano delle anche degli insulti ci sono state appunto una serie di lettere anonime in cui insultavano Mussolini invece era anche un dissenso particolarmente variegato ebbene ho trovato questa lettera di questa eh Maddalena Cecini che appunto era una cugina del nostro bisnonno che eh nel dicembre del millenovecento quarantadue quindi siamo in piena seconda guerra mondiale scrive a Mussolini e cosa e l'indirizzo è Roma via del pellegrino cinquanta quindi era a Roma lei abitava a Roma e cosa scrive a Mussolini eh la sottoscritta Maddalena Cecini in Stecconi madre di sei figli di cui quattro viventi e prossima a sgravare quindi diciamo dove aveva un altro figlio non avendo mezzi di sussistenza si raccomanda caldamente al cuore della signoria vostra per un sussidio sapendo quanto ella è buona e generosa verso le mamme prive di necessario per le sue creature nella speranza che voglia prendermi a cuore il suo stato pietoso la ringrazio anticipatamente e fa voti sinceri per la sua salute e felicità detta Maddalena Cecini Roma via del pellegrino cinquanta e c'è anche vincere perché giustamente c'era la guerra e quindi c'era questo questa sorta di osanna nei confronti di Mussolini ma la questione non è finita qua nel senso che in qualche modo arrivata questa lettera la questura ha chiesto informazioni a proposito di questa Maddalena quindi sì ecco sono in realtà sullo sgravare che termine sì in senso la gravidanza è sgravare in senso che doveva partorire queste cose curiose dell'epoca e tra l'altro sgravare è un termine che ho sentito anche da mia nonna quindi è un termine che si usava a sgravato a partorito sì mi rendo conto che è un termine particolarmente particolarmente pittoresco però diciamo c'è la gravidanza alla fine della gravidanza è una sgravato in senso che ha tolto il peso della del nascituro e quindi che succede che la questura l'otto dicembre si informa su su chi fosse questa questa Maddalena e quindi il segretario particolare cioè per il segretario particolare il questore di Roma l'otto dicembre dichiara Cecini Maddalena abitante via del Pellegrino 50 interno 5 asserendo essere madre di sei figli di cui quattro viventi e privi del necessario prossima partorire chiede sussidio prossima partorire qui già l'elemento burocratico ha cercato di essere un po' più un po' più politicamente corretto pregasi dettagliate informazioni estendendole componenti famiglia quindi si procede con le indagini ma chi è questa che ci chiede i soldi nel senso che effettivamente ha bisogno e c'è la questura di Roma capite bene che tra i vari impegni che c'è il 21 dicembre il 42 quasi alla vigilia di Natale la questura di Roma il questore stesso firma tu Marco che conosci questori mi ricordo quando raccontavi il questore ha dichiarato che i bagagli com'era la storia il messaggio ecco il questore si interoggetto Cecini Maddalena informazioni quindi vanno a cercare informazioni su questa Maddalena quindi Cecini Maddalena fu Francesco e quindi ecco arriviamo al discorso di prima no vedi Maddalena figlia di Francesco quindi tutto torna è lei è lei è lei e di Graziani Francesca nata a Montereale Aquila il 23 marzo 1915 abita in via del Pellegrino numero 50 eterno 5 serbando buona condotta morale e politica nel senso intanto non è antifascista quindi già questo lo 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 ariana e cattolica quindi era un elemento da verificare ariana e cattolica è coniugata con Stecconi Roberto fu Vincenzo e fu Pompei Margherita nata a Monterale Aquila il 2 febbraio 1905 manovale muratore con lire 25 al giorno e percepisce lire 350 al mese di assegni familiari dalla previdenza sociale cioè hanno fatto le pulce effettivamente è indigente nel senso che c'è un po' come il discorso radio cittadinanza cioè ti do radio cittadinanza oggi le decennanze lo danno un po' così a cani e porci invece lì all'epoca andavano a verificare effettivamente la Cecini ha procreato sette figli dei quali cinque viventi Vincenzo di anni otto Antonio di anni sette Margherita di anni cinque scolari Vanda di anni due e Lino di giorni otto quindi c'era anche ha sgravato il frattempo ha sgravato dalla lettera tutti ariani e cattolici e con gli indumenti logori e laceri hanno verificato pure che erano straccioni sostanzialmente la stessa paga regolarmente 1180 di pigioni no mi sembra un po' eccessivo ah no scusa 180 di pigioni mensili non ha beni di fortuna e vive in misere condizioni economiche il senso dice effettivamente è una poveraccia bisogna aiutarla tant'è che quindi arriva dal segretario partito del duce Nicolò De Cesare il 4 gennaio mandato alla signora Cecini Maddalena in esito alla vostra istanza vi comunico che il duce vi ha concesso una elargizione di lire 400 tale somma sarà esigibile presso la sede del dopolavoro del ministero dell'interno in via Venezia 33 dalle ore 10 alle 12 e 30 nei giorni di martedì giovedì e sabato di ciascuna settimana quindi nel giro di di un mese circa da quando questa signora nostra nostra prozia ha scritto a Mussolini gli hanno dato 400 lire come perché era considerata non solo madre di 5 figli ma in condizioni miserrime quindi diciamo questo è stato un un atantum cioè non un versamento no 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 questa diciamo mi immagino per il nascituro nel senso che dice io me sta nascendo questo figlio non so che dargli da mangiare e quindi diciamo che vediamo come la ricerca storica ci ci porta a a trovare anche documenti un po' più recenti bellissima sì sì no tra l'altro bellissimo io ho avuto modo di 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 far vedere questi documenti anche ai ai figli di Maddalena che sono rimasti particolarmente emozionati emozionati da questa cosa e anzi c'era stata anche una discorsa hai visto il duce quanto era bravo queste cose un po' più pittoresche sulla vabbè lasciamo perdere sto discorso però diciamo che l'ho trovato e mi sembrava interessante sì allora io ringrazio intanto Andrea Sette che deve andare che tu hai c'è a scuola quindi ringraziamo tanto adesso vi liberiamo se non è sequestrato no 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 a parte adesso finiamo finiamo col discorso vi leggo un'altra cosa simpatica allora intanto prima di questa allora mio nonno Giovanni che era stava facendo il militare e questa è una lettera di simile approccio scritta da Palmieri Cristina che era la nostra bisnonna quindi la la moglie di di Pietro quello che era morto nel 1927 che scrive il 25 marzo 1945 io ho l'originale eccolo qua questa originale di questa di questa lettera e scrive al comando distretto militare l'Aquila quindi la sottoscritta Palmieri Cristina fu Angelo Vedova Cecini di anni 69 quindi abbiamo anche l'elemento che essendo quindi è rimasta vedova sostanzialmente a a 51 anni perché se era rimasta vedova nel 26 c'era 51 anni quando è rimasta vedova madre del richiamato Cecini Giovanni quindi diciamo mio nonno era stato richiamato dopo l'8 settembre siamo nel 45 doveva finire il militare fu Pietro Paolo classe 1917 inoltre domanda a Codesto distretto affinché voglia prendere in considerazione quanto appresso per l'esonero del predetto quindi chiede come la la diciamo la 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 cugina del del marito aveva chiesto tre anni prima che il duce gli facesse un dono di soldi questa Cristina scrive al ministero ovviamente siamo nel 45 quindi la guerra è quasi finita la realtà è quella del del regno del ripristinato regno del sud del regno del sud chiede sostanzialmente che il figlio possa tornare a casa uno primo è l'unico figlio che vive con me era il più piccolo aveva era del 17 quindi aveva 20 20 28 anni come da allegato numero uno due è l'unica persona che coltiva la mia azienda agricola l'azienda agricola considerando che sappiamo benissimo com'era che c'avevano un pezzetto di terra e c'avevano due capre e un asino quindi questa era l'azienda agricola non è che avesse grandi cose veramente era un pezzo di terra due capre e un asino di mia proprietà come dall'allegato numero due tre la sottoscritta nonostante l'età avanzata quindi inabile e inabile scritto come dicevo prima Marco in apostrofo abile a qualsiasi lavoro è anche affetta da miocardite quindi diciamo anche dei problemi di salute con eccessi di disporea come dall'allegato tre quindi presentava anche dei certificati inoltre la sottoscritta fa presente a codesto comando che la famiglia si trova in disagevoli condizioni economiche e finanziarie e il richiamo alle armi del predetto figlio porterebbe gravi conseguenze all'andamento dell'azienda con osservanza Montereale il 25 marzo 45 Palmieri Cristina Vedova Cecini e quindi abbiamo anche questa testimonianza di una situazione di di particolare povertà e tant'è che appunto poi io ho il congedo di mio nonno ecco qua però che risale al settembre del 47 quindi diciamo che non sappiamo da dal marzo del 45 al settembre del 46 questi due anni e mezzo onestamente cosa abbia fatto una cosa molto bella sia nel io vi ho fotografato solo questo pezzettino tanto le informazioni che ci interessavano erano presenti qua ma anche nel eh diploma sottostante del congedo interessante come ci sia il bollo della del regno d'Italia con la corona e sopra applicato il timbro di rettifica Repubblica Italiana perché avevano ancora i bolli qui siamo al settembre del 47 era passato un anno e mezzo da referendum Monarchia Repubblica ancora usavano i bolli della Monarchia e sopra ci applicavano la scritta Repubblica Italiana questa è una cosa veramente sfiziosa e infatti invio foglio di congedo al signor Cicini Giovanni di Pietro Paolo classe 17 inese la sua richiesta si trasmette il suo foglio di congedo illimitato quindi fortemente settembre 47 è stato congedato che poi tra l'altro in realtà già si era si era pure sposato perché mio padre è nato nel nel marzo del 48 quindi diciamo lui già era sposato in aprile quindi in qualche modo aveva aveva avuto modo nel frattempo di di sposarsi e di di concepire la moglie ancora non aveva sgravato però in qualche modo c'era questa situazione allora siamo arrivati a due ore e sette non lo so penso che vogliamo finire qua se non ci sono domande io lascerei liberi i nostri poveri eh comunque eh azienda agricola eh unabile merita un video sul contesto storico sì magari possiamo fare anche altre situazioni io chiuderei questa questa nostra eh chiacchierata con questa foto questa foto che raffigura questa questa è una foto eh grossomodo credo nella metà degli anni ottanta che io sono del settantanove Marco è dell'ottantadue il fratello Stefano è dell'ottantatere che è quello con i pantaloni rossi che in mezzo scuro ti fa in ombra e quelli sono altri altri nostri cugini ecco Marco per capirci è quello che sta ridendo sotto con la maglietta righe con le magliette righe bianche e e blu io ho quello con la canottiera questa qua con questo specie di gallo eh sulla canottiera eh questa questa qui questa foto rappresenta un po' i i i i cecini o i cecini come come dirsi voglia attualmente eh viventi e eh che appunto possono proseguire la 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 tradizione diciamo della nostra generazione poi ci sono altri diciamo nati dopo a parte i nostri figli e quindi altre eh altre io ho un'altra cugina che è nata che è più più giovane quindi diciamo non 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 fa più non fa parte di questa di questo blocco di 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 nascite tra la fine degli anni settanta e i primi eh anni anni ottanta quindi diciamo che è un elemento anche simpatico per poter chiudere questo video che ha diciamo torniamo così che è è nata un po' come una sorta di duello no? Duello chi vincerà? C'erano i bookmaker che avrebbero voluto scommettere ma io mi sento di fare un un bilancio poi ovviamente lascio la parola a Marco per eh gli ultimi eh saluti barra consigliazioni la Marco ci ha sicuramente offerto un numero impressionante di spunti io lo ringrazio per tutto il lavoro certosino sul campo che ha fatto nella ricostruzione veramente di tantissimi passaggi nonostante poi la difficoltà perché appunto io mi occupo di ricerca storica di età contemporanea e è difficile farla figuriamoci in cui le fonti sono ancora più eh più scarse e bisogna veramente andarla a cercare con il lanternino anche facendo lavoro archeologico perché poi molte delle cose che fa tu veramente siamo risentiamo l'archeologia eh e quindi questo tanto di cappello è di merito per te nonostante questo direte le prove di Marco sono inoppugnabili nella eh nell'accezione che porta il cognome ad essere pronunciato come Cecini allora io sono d'accordo per tutto quello che riguarda l'aspetto storico l'unica cosa che mi lascia perplesso e che quindi mi porta a continuare a farmi chiamare Cecini però poi potevo correggere Marco perché in realtà negli appelli nella mia vita è più le volte che mi hanno chiamato Cecini e ho dovuto correggere in Cecini piuttosto che il contrario quindi diciamo non so la tua esperienza però in genere a me purtroppo no è successo il contrario non ultimo Metal Mike che a suo tempo non conosce ancora non conoscendomi doveva presentare un mio libro mi ha chiamato Cecini quindi diciamo per ironia della sorte io che voglio essere chiamato Cecini mi chiamano Cecini e te viceversa comunque detta questa la mia considerazione è che facendo l'esempio di Gasman ne parlavo proprio stamattina con Marco Vittorio Gasman che si chiamava con due N Gasman a un certo momento della sua vita ha deciso di togliere la seconda N quindi si è chiamato Gasman Gasman ha avuto quattro figli con quattro donne diverse e delle due femmine Vittoria e Paola hanno continuato a chiamarsi Gasman con una N sola mentre gli altri due Alessandro che poi ha fatto Leo famoso per essere un cantante eccetera e Jacopo l'altro hanno ripristinato la N originaria questo cosa ci dice che esistono quattro figli di Gasman di cui due si chiamano con una N e altri due che si chiamano con due N chi è che di due ha sbagliato nessuno dei due nessuno dei quattro secondo me i nomi gli appellativi si modificano si modificano per una serie anche di errori di evoluzioni di involuzioni e visto che mio padre mi ha sempre detto ci chiamiamo Cecini il padre di mio padre Giovanni si chiamava Cecini probabilmente anche lo stesso Pietro non lo so si chiamava Cecini forse perché era un contadino perché forse perché non era particolarmente c'è anche Parabellum attenzione un saluto a Parabellum bisogna bisogna riconoscere tanto di cappello Parabellum arriva sempre all'ultimo ma arriva quindi diciamo è come è come i vip arriva quando non meno se l'aspetti quindi che non ho capito Cecini arrenditi hanno vinto i Cecini vabbè a me fa piacere va bene così comunque dicevo io non mi arrendo no per chiudere secondo me l'evoluzione del cognome ha portato una modifica come una modifica ancestrale come era Cecina e tutte tutte le cose che ci hai detto te si sono modificate e ci può stare che c'è una modificazione che ci porta a pronunciare il nome all'italiana poi io ce l'ho sei al latino quindi mi posso permettere il lusso come diceva Antonino Grasso che io sono Cecini e tu sei Cecini quindi in qualche modo so qualcuno cite che come Gandalf al fosso di Elliot io non sono grande esperto del signore dell'anelli quindi lascio ad altri Marco che è più esperto di me sorride e quindi in qualche modo a te l'ultima parola lascio a te l'onore delle armi ma guarda secondo me sostanzialmente diciamo le modificazioni subite dal cognome antico hanno preservato la sua radice fonetica sostanziale hanno semplicemente adattato quello che era l'alfabeto etrusco a quello latino perché se in etrusco è caicna o ceicna in latino diventa caicina o ceicina e poi diventa cecina in epoca diciamo altomedievale quando il latino si addolcisce nel latino ecclesiastico ma sostanzialmente vediamo che l'apostrofo da sempre andava sulla prima poi dopodiché io non credo che ci sia un giusto o sbagliato io credo che il cognome in qualche modo e la storia che quel cognome porta con sé debba descrivere la propria identità il tutto sta a capire quello che uno vuole descrivere se giustamente quando Bernardo cecina decise di smettere di chiamarsi cecini e di riappropriarsi del suo nome ancestrale o quello che lui riteneva essere il suo nome ancestrale cecina non è che cecini era sbagliato e cecina era giusto lui sentiva questa identità che voleva in qualche modo rivendicare io più che legare diciamo la mia storia come individuo alla epopea della nostra famiglia abruzzese che io conosco in maniera veramente marginale ci sono stato pochissimo sono legato poco o niente a quei territori non ho neanche una casa non ci vado mai in villeggiatura quindi io davvero non sento un legame non sento nessun legame con quella terra quindi se si è cominciato a storpiare il cognome lì quella è una parentesi che a me non mi riguarda io sento molta più vicinanza molto più legame molta più identità al contrario con l'identità storica quando il nostro cognome si chiamava Cecini sicuramente e quando comunque qualcuno di quelli lì giustamente o meno questo non lo potremmo mai sapere però lo hanno fatto hanno rivendicato addirittura una loro discendenza dai Cecina e quindi si ricollegano addirittura a un passato etrusco romano che è espresso da tutti i toponimi di quei luoghi e che il nostro cognome in qualche modo riecheggia che abbia un legame diretto o no ma lo riecheggia perché quando qualcuno mi chiama Cecini è evidente che sta riecheggiando la val di Cecina la famiglia Cecina il fiume Cecina e tutto quello che pertiene a quell'area poi non mi importa dimostrare che ci sia un collegamento di sangue diretto questo a me non interessa ma che il mio cognome lo riecheggi questo è un dato di fatto e io a questa possibilità non voglio rinunciare quindi insomma voglio dire poi è pacifico Bernardo e la sua discendenza sono andati avanti per 500 anni quindi insomma per 500 anni noi ci chiameremo Cecini e Cecini e continueremo ad andare d'accordo ad essere amici e cugini i miei fratelli va bene tra l'altro quindi infatti c'è tante altre aspetteremo analisi genetiche so che tu ci hai fatto un pensierino giusto? sì ci avevo fatto un pensierino però poi sostanzialmente non è che l'analisi genetica ti dà delle risposte univoche l'analisi genetica ti dà un percentile e spesso e volentieri sono diciamo dei percentili che sono anche in realtà rappresentano quello che è l'italiano sostanzialmente è un grande coacervo di influssi genetici di apporti genetici vari quindi sostanzialmente noi avremo una dominanza di aplogruppo celtico indoeuropeo con una spruzzatina forse di anatolico di area egea mediterranea e un'altra spruzzatina forse di scandinavo ma questo è nel dna degli italiani ci può essere qualche punto percentuale che sposta da individuo a individuo ma sostanzialmente secondo me è ricorrente cioè non è che io faccio l'analisi genetica e avrò 70% di aplogruppo non so anatolico piuttosto che mediterraneo che sarebbe quello in teoria degli etruschi comunque Parabellum qua fa il provocatore ti dico solo gli abitanti di Cecina si chiamano cecinesi ma come la metti ma cecinesi non non so Cecina cecinesi Parabellum ha portato le armi pesanti veramente le artiglierie vabbè ma scusa cioè Cecina è la città che fa fede quella vabbè anche perché Mirko Marco non è che si definisce un abitante di Cecina lui fa il signorotto capito lui è il signorotto di Cecina capito è lui che ha dato il nome a Cecina quindi diciamo che i cecinesi sono vassalli dei suoi e poi a noi ci mancano tre lettere perché ci fermiamo a Cecini quindi mancano le tre lettere finali per poter recedire questa vabbè 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 tanto non ci saranno né vincitori né vinti vedi ma è un imborghesito eh vabbè lo siamo lo siamo un po' tutti un po' tutti anche perché appunto considerando le lettere che ha mandato la nostra zia a Mussolini oppure la nostra bisnonna che era una poraccia veramente che non riuscìva neanche poraccia a sgravare senza un giustizio non stupisce perché con un tale tasso di analfabetizzazione non stupisce ma tu te stavi a preoccupare dell'accento ma non sapevano neanche scrivere in italiano poveretti poverette cioè era veramente ridotti a uno stato miserevole dopo generazioni quindi non mi stupisce minimamente che possano aver perso la memoria storia va bene io ringrazio Marco per questa diretta particolarmente stimolante frizzante poi ci ha dato anche l'occasione per fare un po' il punto della situazione so che è un argomento che Marco ci teneva e io tenevo che lo facessimo perché sennò o lo facciamo qua non lo facciamo da nessun'altra parte che non credo che nonostante la tua grande fama di studioso di massenzio di altre argomentazioni non credo che altri posti potevano interessare sarebbe rimasto nella mia testa diciamo esatto quindi l'abbiamo fatta due ore e venti ci siamo proprio tolti ogni poi magari ci ritorniamo sull'argomento e parliamo anche di altre cose parliamo dei tanti tuoi interessi del Giappone delle ricostruzioni possiamo parlare di cinema poi l'abbiamo soltanto sorvolato ma veramente Marche Dio e anche il fratello abbiamo passato veramente giornate intere giornate intere al cinema potremmo raccontare delle cose dove il fratello si mangiava le mosche dove veramente c'erano i pop corn al cinema mentre guardavano i restellari cioè veramente delle cose che voi non potete immaginare cioè delle esperienze più umani esatto delle esperienze più uniche che rare diciamo siamo andati a feste improbabili nel cercare di rimorchiare cioè cose veramente di dove diciamo uno l'ascordate quelle cose appartenevano vent'anni fa anche di più dei vent'anni fa eravamo tutti signorini senza problemi studenti eccetera quindi in qualche modo va bene così allora ancora grazie a tutti a tutti coloro che hanno partecipato a questa interessante interessante faccio protomomia a me ha divertito anche ha divertito tantissimo oltre ovviamente alle tantissime informazioni che Marco ha veramente un pozzo di scienza cioè so che Marco avrebbe parlato fino a domani solo che la voce glielo impedisce anche l'ora tarda che giustamente abbiamo tutti degli impegni domani lavorativi familiari eccetera io vi invito a iscrivervi al mio di canale ma anche a quello di Marco mi raccomando se non l'avete già fatto a proseguire a seguire le recensioni gli approfondimenti del mio canale anche del suo e ricordo per chi canale 10 del DJ Terrestre il sabato sera alle 20 e 30 c'è Marco che ci allieta con approfondimenti su Roma antica a partire dalle armature dalle modalità di tutto e di più quindi questo c'è un ospite d'onore c'è proprio Marco Mellace Flipped Prof e l'abbiamo citato prima in una domanda sarà ospite della t'ha anche salutato eccolo qua grande se vi fa piacere col professore Mellace Marco grandissimo amico mio ciao un saluto grazie per esserci stato e faremo questa bella diretta e vi aspettiamo se ci vorrete onorare ok grazie ancora buonanotte a tutti e alla prossima ciao ciao buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti